Il Consigliere Fazzi Il Consiglio viene convocato a un'ora per la mezz'ora successiva, se non sono tutti presenti, vabbè sono presenti molte persone, credo che sia il caso di fare l'appello. Certo, certo. Bene. Quindi do, invito il Segretario a fare l'appello. Tambellini, Allegretti, Amanti, Angelini, Azzara, Battistini, Benedetti, Bertolucci, Bini, Bonturi, Buchignani, Cantini, Fava, Fazzi, Fratello, Garzella, Giorgi, Lensi, Leone, Lucchesi, Macera, Mammini, Marchini, Martinelli, Mercanti, Monticelli, Moriconi, Mura, Pagliaro, Piantini, Picchi, Rosellini, Tucori, Allora, il Sindaco presente. 24. Bene, con 24, consiglieri presenti, la seduta è valida, nomino scudatori, consigliere Monticelli, Battistini e Piantini. Devo giustificare l'assenza del consigliere Tuccoli, del consigliere Benedetti, che sono fuori sede, della consigliera Ammini, che ci ha comunicato che arriverà a ritardo, e dell'assessore Favati, che è assente per impegni istituzionali, e dell'assessore Tomè, che è assente per questioni personali e familiari. Bene, apriamo il Consiglio con la fase delle raccomandazioni. Vedo già dei consiglieri prenotati. Consigliera Giorgi, prego. Sì, grazie Presidente. Buongiorno Sindaco, buongiorno colleghi consiglieri. Sarò breve. L'anno scorso, 4 luglio 2012, facciamo una raccomandazione relativamente all'ambiente, alle strade, relativamente alle siepi dei privati o non privati che occupano i varciapiedi. Lei, Sindaco, ci rassicurò che le ordinanze fatte, che non sto qui a citare, tutte le leggi che sono nel Comune sarebbero state rispettate. Vi siamo un'altra volta nella stessa situazione, dove le siepi private o nonne vanno a occupare le strade. Un caso eclatante è dal centro anziani all'attuale, mi pare, coppe di Sant'Anna. C'è una siepe che ostruisce completamente il passaggio pedonale. Se guardiamo la pista ciclabile di Sant'Anna, ci andiamo al nostro rischio e pericolo di poter avere qualcosa che ci prenda il collo. Quindi la prego, cortesemente, almeno quest'anno, di far rispettare queste ordinanze, come lei mi ha detto che ci sono. Grazie. Grazie, consigliere. La parola al consigliere Martinelli. Grazie, Presidente. Raccomando al Sindaco di chiarire al Consiglio Comunale le procedure che intende seguire sulla struttura delle Madonne Bianche di Sant'Alessio. visto che leggiamo sulla stampa locale di un accordo che la sua giunta ha trovato con gli occupanti e che prevede che lo sgombero sia limitato a pochi giorni per poi consentire loro il rientro e la gestione transitoria della struttura attraverso l'inserimento di questo gruppo di giovani nella polizza assicurativa del Comune nell'ambito di un progetto sperimentale denominato l'albo dei volontari. Riteniamo in primo luogo che se deve essere istituito questo albo sia il Consiglio Comunale a decidere e non sia solo un provvedimento di giunta. Poi, visto che sempre sulla stampa leggiamo dichiarazioni dell'assessore Vietina che parla di eccezionalità di questa occupazione e che se si verificheranno situazioni analoghe verrebbero trattate in maniera diversa, chiediamo al Sindaco di non fare discriminazione, di non classificare le persone in cittadini di serie A e di serie B a seconda della provenienza politica. Infine, qualora venga istituito questo albo dei volontari, riteniamo che tutte le associazioni che eventualmente richiedano di entrare a farne parte devono essere trattate allo stesso modo e con gli stessi diritti anche sul complesso delle madonne bianche. Grazie. Grazie, consigliere. La parola al consigliere Mura. Grazie, Presidente. Brevemente, perché i tempi sono ristretti, ho deciso di fare questa raccomandazione. Giovedì 18, organizzato dalla locale Camera di Commercio, si tiene l'evento intitolato «Giornata dell'economia, strategie di sviluppo di un territorio, ruolo delle imprese e delle istituzioni», a cui parteciperà anche il nostro Sindaco. Ritenendo questo appuntamento molto importante per il nostro Comune, anche con riferimento a un ordine del giorno approvato circa tre anni fa sulla crisi economica, raccomando al Presidente, quindi mi permetto anche di fare una richiesta abbastanza estemporanea, che non sia il caso di partecipare, almeno come capigruppo e come Commissione Sociale, a questo importante avvenimento. Mi riservo poi di presentare un ordine del giorno sullo stesso. Grazie. Grazie, consigliere Mura. Insomma, raccolgo l'invito del consigliere. Io sarò presente a quell'iniziativa. Invito, qualora volessero, i capigruppo e gli altri consiglieri di prendere parte a questa importante iniziativa. Consigliere Angelini, prego. Signor Presidente, signor Sindaco, è la terza volta che faccio una segnalazione banale invitata dagli abitanti locali e c'è di un segnale stradale che segna il limite di 50 km orari di velocità all'incrocio fra via delle gavine e fibialla. È da più di tre mesi fra le ortighe di una fossa, meriterebbe in qualche modo che qualcuno provvedesse in qualche modo a rimetterlo in funzione. prendo spunto da questa, due mesi e mezzo fa ho fatto la prima raccomandazione, per segnalare un altro aspetto che è quello della funzionalità del servizio dei vigili urbani, che a mio avviso è allo sbando, anche perché manca da anni ormai da un dirigente responsabile in pianta stabile. Ora, come tutti sanno, questo è dovuto al fatto che la dottoressa Antonella Manzione, che era dirigente di questo ufficio, è stata distaccata a tutto il distacco a Firenze per ricoprire questo ufficio nella città di Firenze. Poiché io leggo in questi giorni che la dottoressa Antonella Manzione, che per le sue indubbie qualità già mostrate a Lucca, è stata scelta da Matteo Renzi come direttore generale dei comuni di Lucca, a mio avviso l'amministrazione dovrebbe rivedere, perché distacco un senso nell'andare a ricoprire un ufficio omologo, non ha senso e non è legittimo, se viene assegnata una persona che va a ricoprire un ruolo del tutto diverso, non so neanche a che titolo, cioè quanta lunga, eccetera. Ora, io sono uno fra quelli che porta rispetto alla magistratura e ai magistrati, però questo non può tradursi in un seglio ai familiari, sorelle, figlie e altra varietà umana di magistrati che tutti conosciamo. Quindi io penso che siano venuti i tempi immaturi, i tempi e l'obbligo per l'amministrazione, come si era impegnata a fare da tempo, per mandire un bando di gara, un concorso ufficiale per ricoprire a breve il posto di dirigente del ufficio dei vigili urbani, che è carente da troppo tempo, con inevitabili conseguenze negative, perché i vigili urbani in questa città non funzionano. In qualche modo, perfino Remo Santini l'altro giorno diceva che per fare una contrapposizione erano in quattro, d'altre parti sono zero. Siccome sono a profitto di questo, e il Signor Presidente, come vede, sono in piedi, perché, a norma dell'articolo 45 del regolamento di questo Consiglio Comunale, il Consigliere deve intervenire, stando in piedi, rivolgendosi al Presidente, e naturalmente in tono di differenza verso tutti i colleghi. Ora, io ho già sollevato a lei, ripongo il problema. Anche il Sindaco è un Consigliere Comunale, a norma dello Statuto dell'articolo 27, e quindi, almeno da questo punto di vista, a certi altri doveri, a altre responsabilità, ma dal punto di vista dell'intervento nel Consiglio Comunale, è alla pari di tutti i dirigenti. D'altronde io ho una lunga esperienza e ho sempre visto in tutte le aule del Consiglio regionale e parlamentari che l'unico che sta seduto in Consiglio è il Presidente che dirige l'Assemblea, ma gli altri, il Presidente della Giunta regionale o il Capo del Governo, come Enrico Letta pochi giorni fa, parlano all'Assemblea stando in piedi. Naturalmente questa consuetudine, questa usanza, deriva dal fatto che, in modo tralatizio, non si è recepito la novità dell'ultimo ordinamento del 2000, che creava la figura del Presidente dell'Assemblea e quindi poneva problemi importanti. Io non ne faccio solamente una questione di vita e morte, ne faccio una questione importante, nel senso che il Presidente del Consiglio può sempre derogare a questa regola, che non è il coso, per diversi motivi. Però, ecco, io credo, anch'io, quando sono stato membro del Governo in Parlamento, ho sempre parlato in piedi ai parlamentari. Allora, io credo che il Presidente può derogare a questa regola per il fine. Siccome il sospetto pensa di avere almeno la stessa storia, la stessa tradizione, la stessa dignità del Sindaco, dirò di fine avanti che se il Sindaco parla seduto, anch'io chiedo al Presidente, se non altro per la mia età, di permettere di stare seduto. Però io penso che la cosa più ragionevole fosse che il Sindaco parlasse, come tutti i consiglieri, stando in piedi, anche per evitarci quei pistolotti di ore che naturalmente un uomo è seduto, porta avanti con più facilità, mentre in qualche modo stare in piedi, perlomeno costringere alla disciplina e alla regola. Non ne voglio fare una questione, ma mi affido alla sua cortesia e anche alla cortesia del Sindaco, perché su questo punto, in qualche modo, si mantenga la disciplina del regolamento. Bene, grazie consigliere Angelini. La parola è il consigliere Moriconi. Sì, grazie Presidente. Io voglio fare una raccomandazione su un aspetto che secondo me è importante. Da alcuni mesi l'amministrazione comunale sta lavorando al nuovo regolamento di installazione e il controllo della telefonia mobile, perché ci sono tutta una serie di gestori che chiedono di installare nuovi impianti perché alcune zone sono scoperte o perché, in particolar modo, nel centro città c'è una richiesta molto alta per quanto riguarda il movimento dei dati attraverso smartphone, telefoni e così via. Ora, cosa è avvenuto? L'amministrazione comunale precedente ha dato l'incarico all'Università di Firenze di fare uno studio per verificare se ci sono dei danni che possono essere recati ai cittadini che vivono in prossimità di impianti di ricefrasvittenza di segnali per telefonia mobile. Ora, siccome di questo problema abbiamo parlato anche in Commissione Lavori Pubblici, in Commissione Urbanistica e abbiamo fatto anche l'audizione del Professor Cellai, che è il professore che segue la questione a livello di studio, siamo venuti a conoscenza che tutto lo studio viene fatto sulla base di una simulazione dei dati forniti dai gestori nel momento in cui chiedono l'installazione dell'impianto. Ora, a me sembra che sarebbe opportuno che l'amministrazione, visto che sono dal 2008, se non sbaglio, che non vengono fatte nuove e puntuali analisi sull'effetto elettromagnetico e sulla quantità di radiazioni elettromagnetiche sul nostro territorio non vengono più effettuate, io ritengo che per poter capire se veramente ci sono dei problemi o no, non si può fare attraverso una simulazione di chi vuole installarsi le antenne, ma bensì che ci sia un controllo ogni tanto, magari se fosse anche fisso, in particolar modo nel centro storico e nella periferia subito legata al centro storico, per verificare se tutto è regolare. Quindi io raccomando che prima di andare a decidere sul nuovo regolamento si possa fare un'analisi puntuale di quello che avviene a livello di un possibile effetto elettromagnetico superiore alla normalità. Grazie. Grazie, consigliere Moriconi. La parola al consigliere Allegretti. Grazie, Presidente. La raccomandazione è relativa alla sicurezza stradale e riguarda via De Gasperi, in particolare il tratto finale che porta in via viaccia, quindi per intendersi la parte dietro alla coppa, insomma. Questo tratto di strada è caratterizzato da una curva abbastanza chiusa che non permette una visuale ottimale, quindi i veicoli che si inseriscono non sono visti da chi transita, tra l'altro anche a velocità abbastanza sostenute. Inoltre c'è vicino un parco giochi che è frequentato da famiglie, da bimbi piccoli e anziani, quindi la mia proposta e la raccomandazione che faccio al sindaco e all'assessore di riferimento è quella di magari prevedere dei dissuatori di velocità in modo appunto di ridurre la velocità effettiva dei veicoli. Grazie. Grazie, consigliere. La parola alla consigliera Rosellini. Io ripeto la raccomandazione già fatta la settimana scorsa, dopo aver letto sul sito istituzionale che è stato nominato la Commissione Affari Animali. Ora non so se contemporaneamente è stato fatto anche per l'osservatorio verso i rifiuti zero. Nel caso non fosse stato fatto, io sollecito la nomina dei rappresentanti che faranno parte del gruppo di lavoro, che è di competenza del sindaco, affinché il gruppo di lavoro parta e inizia a operare il più presto possibile, ricordando che l'adesione al percorso verso i rifiuti zero prevede, tra le altre cose, l'istituzione dell'osservatorio. Quindi, se ancora non è stato fatto, ripeto nuovamente la raccomandazione, sollecito la creazione quanto prima. Grazie, consigliere. La parola al consigliere Fazzi. Sì, grazie, Presidente. Allora, in questo periodo, cioè ci accorgiamo tutti quali sono le situazioni di gestione, di difficoltà di gestione delle finanze dell'ente. Guardo l'assessore Sichi, ma ovviamente la considerazione è molto, come dire, di dettaglio, ma riguarda altri settori. In un momento come questo, diciamo, estivo, nel periodo estivo, tutti beneficiamo degli impianti di condizionamento. Ecco, però, in comune succede, a quanto risulta a me, ancora una cosa anomala, che, raccomando, segnalo alla vostra attenzione, perché venga, lo scorso anno lo feci, lo ripeto, venga meno monitorata. Gli impianti di raffrescamento e condizionamento di tutte le sedi comunali sono accesi ininterrottamente 24 ore su 24. Cioè, se uno passa vicino alla sede di Agorà, lato Via delle Trombe, se uno passa in Via Santa Giustina, o meglio, da Piazza Santa Maria Nera, Santa Maria Corto Orlandini, se uno si mette dietro la misericordia, nel cortile, nel cavedio, ad ascoltare il rumore, sente che i compressori sono in funzione sempre. Allora, questo cosa vuol dire? Che, oltre all'orario nel quale sono frequentati gli uffici, l'orario, giustamente, deve essere, come dire, fatto in modo che siano vivibili, che siano confortevoli, eccetera, sia per chi ci lavora, sia per chi li frequenta, ma anche per tutto il periodo pomeridiano, quando c'è la giornata corta, e comunque serale e notturno, rimane sempre in funzione il condizionamento dell'aria, e il raffrescamento. Non solo, ma dal venerdì sera fino a lunedì mattina, quindi il venerdì notte, il sabato, il sabato notte, la domenica, la domenica notte, rimane tutto in funzione. Allora, siccome la bolletta dell'energia elettrica non è una voce così secondaria nel Comune, e questo capitolo è particolarmente rilevante, io raccomando vivamente che ci sia messo, io credo che meriterebbe anche, come dire, un ordine di servizio in modo che la cosa venga fatta con qualcuno che ne risponde. E comunque esistono le apparecchiature perché queste cose si possano mettere sotto controllo. Credo che per rispetto delle persone che vengono spremute quotidianamente, insomma, sia almeno il minimo. Bene, grazie, consigliere Fazzi. Bene, passiamo allora al cuore di questo Consiglio, che sono le pratiche 264-2013 e la 263-2013. Nell'ultima riunione di Capigruppo è stata avanzata la proposta che sottopongo al Consiglio di fare un'unica discussione di entrambe le pratiche, una proposta che è stata trovata con l'ampio consenso dei capigruppo presenti, quindi invitando i consiglieri che volessero intervenire all'interno sulle due pratiche di farlo in un unico intervento, chiaramente senza contingentare i tempi, rispettando i tempi previsti dal regolamento, quindi i tempi per due pratiche sostanzialmente, quindi chi ha a disposizione 20 minuti ne avrà 40 e così via, in modo che una volta entrati nel sistema di voto si potesse procedere a votare entrambe le pratiche e una volta esaurita la discussione. Sottopongo quindi a voi questa proposta, vedo il Consigliere Fazzi e il Consigliere Martinelli, do la parola al Consigliere Fazzi. Sì, Presidente, io prima di darle una risposta su questo mi ero prenotato, prima che lei formulasse il quesito, riferendo a quello che è stato detto dalla conferenza dei capigruppo, perché già dalla lettera di convocazione è evidente una scelta che è stata fatta dalla Presidenza e ritengo dall'amministrazione e quantomeno presa, come dire, con una successiva presa d'atto della conferenza dei capigruppo, ovvero la scelta di invitare a partecipare, ad assistere, l'invito è per conoscenza, ai lavori di questo Consiglio rivolto ai consiglieri di amministrazione delle società partecipate, da Lucca Holding e S.P.A., ai collegi sindacali delle società partecipate da Lucca Holding e S.P.A. e poi, allora, questa scelta io chiedo, primo, che abbia rilievo negli atti e lo dico rivolgendomi a lei, Presidente, ma guardando il Segretario Generale. Cioè, che questa cosa risulti. Siccome è una cosa diversa e non è casuale, se fossero stati invitati con facoltà di parola avremmo avuto notizia della loro presenza in maniera più evidente per le loro parole, per le loro dichiarazioni, anche nel caso, diciamo, che non tutti fossero intervenuti. Invece in questo caso si è fatta la scelta di dire, beh, venite, un invito, direi che non si possa dire, diciamo, il termine usato è comunque convocazione, è rivolta ai consiglieri e ai componenti del Consiglio, però indirettamente si usa lo stesso termine, poteva essere specificato con una lettera diversa e formulato come invito, perché non credo che ci sia comunque il potere, la possibilità di esercitare il potere di convocare gli amministratori ad assistere al Consiglio. Comunque, sono stati, io dico, invitati, sposando la linea, come dire, che mi sembra più rispettosa del loro ruolo, ad assistere. Questo ha un significato politico e non è pretestosa la considerazione che faccio, mi rivolgo a voi, mi rivolgo anche però al pubblico, anche se guardo il Presidente, ovviamente. Perché a cose, diciamo, finora che cosa è successo? Il Consiglio dibatteva, qualunque cosa avvenisse, nel Consiglio poi veniva trasferita agli amministratori nominati, tramite il passaggio della Lucca Holding, dal legale rappresentante, cioè dal sindaco. Quindi, le parole ascoltate dagli amministratori erano quelle riferite dal sindaco e c'erano da una parte i deliberati, dall'altra le parole del rappresentante legale dell'ente comune di Lucca, ente locale, no? Ora cosa succede? Si vuole fare una scelta diversa e si dice venite e ascoltate il dibattito. Allora, questa non è una cosa neutra, non è per niente neutra, vuol dire che si conferisce ai nominati una valenza politica, che vuol dire che non sono dei meri esecutori, non sono dei tecnici, non sono delle persone che gli viene detto qualcosa e si tratta di una linea di comando unidirezionale, sia pure formulata nelle maniere più cortesi, ma di questo si tratta. No, si dice, sappiate che quello che vi dirà il legale rappresentante, e non me ne voglia il sindaco, se semplifico, nasce da un dibattito dove voi siete stati invitati ad ascoltare le varie sfaccettature e le diverse opinioni. Quindi venite, vengono, lo dico all'è il Presidente, loro, responsabilizzati in questo senso. E gli viene detto che la dimensione politica che in quel ruolo era preclusa agli amministratori, ai nominati, viene improvvisamente riconosciuta e viene a loro, in qualche modo, anzi, imputategli, guardate, che non potete più dire che noi c'era stato detto. Voi ora sapete, dopo questo dibattito, per la prima volta, ufficialmente, non solo avete visto per quello che c'è scritto dai comunicati, dai giornali, ma soprattutto dalle delibere e da quello che vi viene detto nel rapporto diretto dal legale rappresentante che direttamente o indirettamente vi nomina. Ma c'è questo coinvolgimento. Allora, secondo me, questa è una scelta importante. È importante nei confronti e nel modo di esercitare il ruolo che viene chiesto ai rappresentanti, i quali a questo punto sono interlocutori formali dell'ente, ma sostanziali del Consiglio. Giusto? Io interpreto così. E quindi sono tenuti a tener conto anche nelle fasi successive non solo di un ruolo meramente esecutivo, ma di un ruolo di persone dotate di testa anche dal punto di vista politico, lo erano lo stesso, ma gli viene riconosciuto questo. E quindi sono invitati in qualche modo a dire beh, rendetevi partecipi di questa dimensione perché, come dire, dobbiamo portare i pezzi tutti insieme. Può essere una cosa estremamente positiva. Io la incoraggio sicuramente. Sono favorevole. Ecco, detto questo, non ho altro da aggiungere. Per quanto riguarda le modalità di esercizio della di conduzione del dibattito della votazione, sono d'accordo. Mi scuso fin da ora, Presidente, che purtroppo dovrò allontanarmi per ragioni indipendenti dalla mia volontà. Non posso partecipare a tutta la discussione. Forse non ci sarò nemmeno alla votazione, ma a parte questo, per me, diciamo, per quanto riguarda noi, le modalità dalle indicate sono condivisibili. Ecco, magari insisto perché di questa cosa sia, quella che dicevo prima, sia data nota nei verbali. In parte lo hai già perché il mio intervento va verbale, però è diverso se questa cosa viene assunta dalla Presidenza e dall'amministrazione. Grazie. Certo, la ringrazio consigliere Fazzi. Vorrei precisare appunto che nell'ultima capigruppo, la capigruppo che poi ha determinato l'ordine del giorno dei lavori di questo Consiglio Comunale, abbiamo dibattuto appunto sul ruolo del convolgimento dei rappresentanti dell'amministrazione nei vari enti e quindi in maniera non appunto unilaterale da parte mia ma in maniera concordata con il capigruppo abbiamo deciso di invitarli appunto per conoscenza alla luce anche dell'importanza insomma che poteva avere questo il dibattito di questo Consiglio. ecco questo per precisazione. Consigliere Martinelli Grazie Presidente io intervengo sulle modalità di prosecuzione dei lavori del Consiglio ovvero la conferenza dei capigruppo decise di dare come suggerimento il fatto di fare un'unica discussione per entrambi gli argomenti all'ordine del giorno però visto che magari qualcuno potrebbe non essere d'accordo su questo suggerimento che rimaneva tale chiedo al Presidente di mettere in votazione questo appunto modalità di prosecuzione dei lavori in modo tale che anche gli altri oppure lo chieda ai capigruppo presenti visto che l'Aula è sovrana se a tutti può andar bene di proseguire in questo modo i lavori poi annuncio già a nome del gruppo del Popolo della Libertà che noi alle ore 18 dobbiamo assentarci per impegni politici precedentemente presi grazie grazie consigliere Martinelli per quanto riguarda la prima parte del scusate per quanto riguarda la prima parte del suo intervento consigliere Martinelli è quello che ho fatto ho detto la raccomandazione della capigruppo essendo il consiglio sovrano rimetto la decisione all'Aula quindi ho chiesto se qualcuno fosse contrario a questa indicazione se nessuno obietta la darei per altrimenti la metto in votazione sicuramente ecco consigliere Angelini io non credo che si possa mettere in votazione una modalità come questa ci sono due pratiche evidentemente raggiunta a diciamo interesse o comunque una visione delle due pratiche come qualcosa di uguale a mio avviso sono cose profondamente diverse e io a prescindere dal laurea che non ha competenza a sommare la discussione pur rispettando che ognuno prenda il tempo che vuole io annuncio che voglio fare due interventi fra l'altro non certamente per complessivi 40 minuti uno sulla prima pratica per quanto riguarda la riduzione del capitale della luca ognuno secondo sulle modalità che fra l'altro per capire bene signor presidente siccome la seconda pratica ha preso inizio da una mozione da me presentata votata e in qualche modo a mio avviso stravolta nella procedura io penso e ritengo di voler parlare in modo diverso ci sono due pratiche io voglio parlare sulle due pratiche in modo distinto ma questo è possibile nel senso all'interno del tempo che con questa modalità lei avrebbe 22 più 22 quindi 44 minuti può decidere di intervenire una prima volta per 15 minuti e la seconda volta per 30 minuti insomma quello che sarà e fare due interventi su due parti diversi però sempre all'interno di una discussione unica non so se mi spiego dopodiché si entrerebbe nel sistema di voto si votano entrambe le pratiche e basta quindi questo potrebbe essere questa è la proposta non si vuole la capigruppo appunto non voleva assolutamente contingentare i tempi voleva dare il rispettare appunto i tempi previsti dal regolamento però per un alleggerimento insomma dello scorrimento dei lavori si pensava che fosse utile fare un discorso questo tipo qui ecco quindi possono sicuramente essere fatti due interventi prego consigliere Angelini io non voglio fare problemi però mio diritto è di fare un intervento sulla prima pratica arrivare al voto e chiudere la prima pratica secondo riaprire la seconda pratica che è una cosa diversa fare una discussione e in qualche modo arrivare al voto questa è la prassi che le regole che io penso però io non voglio fare una ma io intervengo una prima volta poi interverrò dopo una cosa la seconda volta mi sembra però ecco posso dire sbagliato che in qualche modo si sommino due cose che hanno contenuti e finalità diverse il sindaco chiesto di intervenire sono d'accordo con lei il consigliere Angelini ci si alza quando si parla e anche io mi alzo sono in piedi con molto volentieri e le do anche ragione sul fatto che si trattano due pratiche diverse molto diverse nella struttura nella sostanza per cui solo se il consiglio ritiene di risparmiare tempo discutendo le interventi insieme per ragioni che è facoltà del consiglio decidere ma si tratta di due questioni diverse che hanno bisogno di una trattazione diversa e di un voto differente ovviamente quindi se c'è da parte sua se si rileva la necessità di una discussione per la pratica numero 64 successivamente per la pratica numero 63 io credo che si possa essere d'accordo bene quindi a questo punto c'è un disaccordo sostanziale sulla richiesta che ho fatto direi di accogliere la richiesta di Martina e di mettere quantomeno in votazione questa modalità di procedere insomma se forse se non c'è l'accordo in realtà è meglio non comunque si era un modo per semplificare i lavori insomma non ne farei una questione se non c'è l'accordo procederei come abbiamo sempre chiedito a te consigliere Cantini sì grazie presidente allora nel ribadire che noi invece rimarremo fino alla fine della discussione visto che la maggior parte dell'opposizione si andrà come al solito volevo semplicemente dire che invitare gli altri capogruppo vorrei invitare gli altri attenzione attenzione allora vorrei invitare gli altri capogruppo a essere presenti alla commissione capogruppo visto che poi tante volte le decisioni che vengono vengono la ringrazio avevamo però cercato di alleggerire un po' i toni visto che poi non è una questione di lana capina sostanzialmente consigliere Martinelli innanzitutto volevo precisare che per quanto riguarda il gruppo PDL è sempre presente alle sedute di consiglio fino alla fine e anche ai capigruppo come non è vero la prego consigliere la prego consigliere non è una questione di presenza alla capigruppo insomma dopodiché dopo di che non abbiamo discussione sulla conferenza dei capigruppo dopodiché alcune volte abbiamo anche alcune volte abbiamo anche tenuto il numero legale su delle pratiche importanti per la città detto questo le chiedevo al Presidente di riunire per due minuti i capigruppo in modo tale che venga presa una decisione accolgo allora questa richiesta di sospensione per due minuti convoco i capigruppo per decidere sull'andamento dei lavori il consiglio è sospeso per due minuti di sospensione di sospensione di sospensione di sospensione Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Scusate consiglieri, non essendoci consenso unanime sulla proposta che ho fatto abbiamo deciso di proseguire come da regolamento trattando le due pratiche in maniera separata, quindi come da regolamento. Semplicemente questo non c'è convergenza su quello che è solamente una proposta operativa. Bene, quindi entriamo nella discussione per quanto riguarda la pratica 264-2013, riduzione del capitale sociale di Lucca Holding S.P.A. indirizzi al socio unico approvazione. Do la parola al sindaco per la relazione introduttiva. Prego. Presidente, le chiedo di chiederei anche di invitare l'amministratore unico di Lucca Holding, dottor Andrea Bortoli, che non vedo a raggiungere i banchi della Presidente. Grazie. 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 La violenza è stata costituita come S.R.L. il 31 luglio del 2003 e fu costituita con lo scopo di gestire i scespiti azionari in mano al Comune, per conto del Comune di Lucca. E le modalità di costruzione furono allora molto discusse. Perché? Perché fu reperita sul mercato una società, appunto, che diventò la Lucca Holding SRL, successivamente si fecero confluire nella società le partecipazioni azionali del Comune. Noi avemmo da ridire allora sui valori di stima dei cespiti azionari. Successivamente una parte di quel conferimento fu ripreso dal Comune, il quale pagò, si trattava di una somma di 10 milioni circa, pagò e stinse con quei 10 milioni i debiti più onerosi, cioè i mutui più onerosi. Fu molto discussa, ripeto, la questione Holding per le ragioni che illustro. Fu discussa la modalità di conferimento perché, in pratica, ritenevamo che non vi fosse una stima di terzi dei valori azionari conferiti, ma fosse una stima che ogni società aveva prodotto in proprio, poi garantendo, appunto, il conferimento. L'altro aspetto che abbiamo discusso all'epoca era il fatto che la Holding nasceva già con un debito importante, in quanto 10 milioni del capitale sociale insieme restavano al Comune, e quei 10 milioni dovevano essere recuperati nel tempo attraverso l'accensione di un mutuo oppure di prestiti con il mondo del credito da ammortizzare nel tempo attraverso, poi, le plusvalenze annuali provenienti dalle varie società. Il cammino della Holding è stato un cammino lungo, ormai decennale, che ha conosciuto molte variazioni. La Holding, come si spiega in narrativa, nella delibera, è una Holding pura, quindi non si tratta di una società che gestisce situazioni operative per conto delle società controllate, ma è una Holding pura, appunto, gestisce per conto del Comune, semplicemente, le società che le sono affidate con direzione e coordinamento, niente altro. Poi, se ricordate, il decreto Spending Review, ovvero il decreto numero 95 del 6 luglio 2012, era impostato in maniera tale da dare la possibilità di giungere all'amministrazione della Holding attraverso il socio unico, una scelta che noi abbiamo compiuto e una scelta che ha dato la possibilità di velocizzare anche il rapporto con il Consiglio dell'amministrazione della Holding, che, ho detto, è oggi ridotto a un amministratore unico. Bene, a suo tempo avevamo anche dato alla Holding alcuni indirizzi, perché? Perché quando approvammo il bilancio l'anno scorso, il bilancio consolidato del 2012, ponemmo su quel consolidato alcune riserve, cioè, facemmo mettere a verbale, alcuni cenni di riserva su quello che era stato deciso in termini di consolidato. Ma la Holding aveva come indicazioni evitare che le aziende potessero costruire turbativa della libera concorrenza tra imprese. Naturalmente, un discorso primario era sul contenimento della spesa pubblica, e questo l'abbiamo fatto nei Consigli di amministrazione, che hanno portato nell'insieme a minori spese per circa 601 mila euro. Cito a memoria, ma mi dovrei sbagliare di poco. Vi è stata poi tutta la questione CLAP, che tutti ricordano, perché il trasporto pubblico locale ci ha impegnato sin dagli inizi, e ci impegnerà ancora, e ci ha impegnato molto duramente, perché abbiamo trovato la situazione CLAP in modo che definisco in questa sede complesso, e qui mi fermo. Poi abbiamo chiesto di controllare le attività delle società partecipate dal Comune, affinché i bilanci fossero osservati e poi successivamente approvati, naturalmente oltre che secondo le obblighi di correttezza e felicità previsti dalla legge, secondo anche un'idea di prudenza che oggi, in tempi come quelli che viviamo, è quanto mai richiesta e richiamata. Faccio presente che la contingenza attuale è in ragione di una perdita del prodotto interno lordo di circa il 2,7% nel 2012. Vedremo quello che si avrà nel 2013, ma non mi sembra che le prospettive da questo punto dell'anno fino al 31 dicembre possono essere rassicuranti. Dunque, naturalmente, chiedevamo il contenimento anche delle spese generali, e poi naturalmente rimandavamo al fatto, che sarà discusso poi anche nella delibera numero 64, di dare come impianto giuridico del rapporto tra la holding e società partecipate, di dare uniformità appunto a quell'impianto giuridico, cosa che mi sembra sia appunto osservata, come giustamente si faceva notare anche prima, nella delibera numero 63, la prossima che discuteremo. Poi vi era la necessità di osservare anche la possibilità di riordino. Ho sempre detto in più occasioni che le società partecipate al Comune sono moltissime. Ebbene, noi riteniamo che si debba provvedere anche al riordino della struttura per favorire migliori possibilità di funzionamento. E nei casi in cui è richiesto attivare le procedure per giungere al controllo analogo. L'abbiamo fatto, se ricordate, per itinera nel Consiglio Comunale scorso, perché itinera la società interamente in ausa è soggetta al controllo analogo. Significa che il controllo analogo, penso sia noto in particolare a chi ha esperienza di queste questioni oggi discusse, controllo analogo significa che quella società è come una parte del Comune di Lucca, cioè è un settore, come un settore del Comune di Lucca sul quale il Comune deve esercitare la sua attività di controllo analogamente a come la esercita sulle attività interne. Poi la revisione degli statuti, ripeto, è questione che osserveremo successivamente a livello del 63, ma anche questo è importante perché l'ha stabilito questo Consiglio di rivedere lo statuto in modo da omogenizzarli e in modo da recuperare anche quel potere di indirizzo che il Consiglio ha in maniera tale che le aziende, le società poi non procedano automaticamente su questioni di grande rilievo o giudicate di grande rilievo come invece in alcuni casi poteva essere accaduto in passato. Ebbene, questa indicazione che abbiamo fornito soprattutto relativamente alla prudenza della gestione ha portato l'amministratore unico a verifiche che sono durate un anno. La strategia che abbiamo messo in campo è stata questa, un primo periodo di verifica, poi la garanzia che si proceda secondo linee di piena legalità nella disposizione dei vari affidamenti e, terzo momento, il riordino societario, che speriamo in alcuni casi di poter condurre entro la fine di questo anno. Dunque, l'amministratore unico, poi lo spiegherà meglio il dottor Bortoli, ha provveduto all'esame delle condizioni di bilancio delle varie società e ha rilevato alcune situazioni che sono state messe in evidenza anche nella delibera, naturalmente nella delibera, oggi sottoposta alla vostra attenzione, ha rilevato soprattutto alcune criticità per sistema ambiente per quanto riguarda i cespiti da avviamento, Lucca, Fiere e Congressi, per quel che riguarda il valore del patrimonio, Lucca, Fiere e Congressi, in particolare la stima dell'edificio cosiddetto Polo Fiere, e per Polis, anche in questo caso, soprattutto per quel che riguarda la stima del patrimonio immobiliare di Polis, nel caso, in specie, della ex palestra Bacchettoni. Dico ex palestra perché da tempo è inutilizzata, spero che questo Consiglio possa decidere presto, nelle nostre intenzioni, sarebbe entro il mese di settembre, la destinazione di quell'immobile. Bene, in base a perizie che sono state effettuate da personale naturalmente specializzato, non sono perizie che si sono svolte in proprio, sono state affidate a persone di provata competenza, e in base a quel principio di prudenza al quale abbiamo detto di attenersi, l'amministratore unico propone all'Assemblea dei Soci le seguenti svalutazioni del capitale sociale. Sistema Ambiente S.P.A. per svalutazioni per Euro 3.676.848, Lucca Fieri e Congressi, Società per Azioni, per Euro 2.916.150, Polis Spa, Società per Azioni ovviamente, per Euro 2.450.049, meno importante la svalutazione di T.N. Era comunque, nell'insieme, si tratta di una svalutazione del capitale sociale di 9.198.713. Bene, se si sommano in modo algebrico ai numeri che ho fornito, i risultati positivi nell'anno e nell'esercizio 2012, ebbene, risulta oggi una perdita di 7.398 euro, così come indicato nella relazione dell'amministratore unico che voi trovate allegata alla delibera. Quindi la perdita di esercizio oggi è di 7.398 euro. Dunque, se si considera il patrimonio netto al 31.12.2012, che risultava composto, come trovate anche in delibera, capitale sociale 51.573.419 euro, riserve per Euro 5.386.081, utili 26.291, ebbene, tutto considerato, e considerato anche che Lucca Holding ha distribuito riserve al Comune di Lucca a inizio d'anno per 1.778.926, ebbene, il capitale sociale viene ora ridimensionato a 48 milioni circa, perché la svalutazione del capitale sociale complessivamente risulta essere di 3.367.952. Quindi il capitale sociale, precisamente, scende a 48.205.467. Ripeto, è questa un'operazione che non porta a conseguenze pratiche immediate, è solo la considerazione del valore che il capitale sociale dell'azienda ha avuto in passato e come quel capitale oggi viene stimato. Non è che c'è una perdita per cui bisogna buttar fuori, semplicemente, intanto per capirci, avevamo un appartamento che ritenevamo valesse, per ipotesi, un attico, che ritenevamo valesse 750.000 euro, oggi riteniamo che, in ragione di varie osservazioni e di varie analisi, che il valore di quell'attico sia sceso a 650.000 o 600.000 euro. Ecco, semplicemente questo. E la questione è, abbiamo detto, in termini di carattere prudenziale, anche in ragione di quello che è avvenuto poi in contesti, cito per esempio il polo fieristico, che sono ben noti a chi ha lavorato in questo Consiglio. Quindi l'oggetto, la sostanza della pratica oggi sottoposta alla vostra attenzione, è questa, fondamentalmente. E riteniamo questa una questione di grande rilevanza, perché consente di riportare il capitale sociale della holding a una condizione di stima che reputiamo più giusta in relazione ai tempi che sono maturati e a quanto nel tempo passato si è verificato. Non mi pare ci siano preoccupazioni riguardo all'entità del capitale sociale e l'indebitamento della holding S.P.A., un indebitamento che, cito sempre a memoria, dovrebbe oggi essere di circa 13 milioni, poi spiegherà meglio l'amministratore unico. Ricordo che la holding, per poter versare al Comune le plusvalenze di cui il Comune in vari tempi ha avuto bisogno, a contratto mutui, l'ultimo è stato contratto per 6 milioni e mezzo l'anno scorso. Quindi abbiamo questo indebitamento al quale facciamo fronte attraverso la gestione ordinaria della holding. Il rapporto tra indebitamento e capitale sociale è un rapporto indicativamente di 1 a 4, quindi niente di particolarmente pericoloso, ma invece addirittura ci pare che il tutto avvenga o possa avvenire nel contesto di una condizione piuttosto rassicurante. Quindi, dopo la discussione necessaria che ci sarà su questioni di tanta rilevanza e che sicuramente scalderanno anche gli animi, io invito a votare favorevolmente questa pratica, la pratica numero 264, che è, ripeto, un passaggio al nostro parere importante nel riassetto della holding, perché la riporta su condizioni patrimoniali oggi per noi più rispondenti al vero. Ripeto, non è una cosa banale, non è una questione banale quella che stiamo osservando, è una questione di notevole importanza, ma è un passaggio questo necessario per dare nuovamente solidità al sistema. A nessuno fa comodo o fa piacere avere conti che contengano elementi che possano apparire molto luminosi, molto luccicanti in termini numerici, ma non rispondenti poi alla verità, allo stato di verità, che oggi potrebbe essere quello del mercato, se mettessimo sul mercato gli immobili a cui facevo prima riferimento, e a nessuno, credo, faccia piacere, poter immaginare una condizione della holding con conti, con numeri clamorosi, molto allettanti, ma che non hanno dietro poi la consistenza che desideriamo che dietro a quei numeri vi sia. Grazie, Sindaco. Da questo punto la parola all'amministratore unico di Luca Holding, espia, dottor Bortoli. Prego. Sì, soltanto due parole, perché credo che le cose più importanti derivino dai consiglieri comunali, che io ringrazio per aver dedicato questo tempo a commentare il flutto del mio lavoro di un anno, lavoro che è stato personalmente piuttosto impegnativo, e quindi fa soddisfazione poterlo esporre e poterlo discutere con l'azionista. L'azionista che è il Consiglio Comunale, o forse, ancora meglio, è la città, perché l'azionista della holding è la collettività a cui la società appartiene. Per quanto riguarda l'introduzione che ha fatto il Sindaco, è già abbastanza completa. Io devo dire che, siccome ci è parlato molto anche già sui giornali di questa grande svalutazione, devo dire che ho inteso il mio ruolo, oltre che nel senso di verificare tutte le carte che ho trovato dai miei predecessori e fare delle valutazioni in generale di quelle che potevano essere le piccole o grandi partite in sospeso derivanti dal passato, ma ho inteso il mio ruolo, soprattutto come missione di fare un servizio dichiarativo all'azionista, di dichiarare quanto, a mio avviso, è il valore che l'azionista sta investendo nelle immobilizzazioni finanziarie partecipate dal Comune. Perché è importante questo servizio dichiarativo? È importante per quanto riguarda il lavoro di un amministratore, perché se è un amministratore si dice che gli si mettono 55 milioni di euro in mano, quell'amministratore li deve far fruttare. Se a giudizio dell'amministratore non sono 55, ma sono 48, l'amministratore ha il dovere di dire all'azionista guarda non mi stai consegnando un patrimonio da 55 milioni di euro, mi stai consegnando un patrimonio da 48 e sono 48 perché ne sono arrivati due di utili operativi in corso d'anno, altrimenti sarebbero stati 46. Quindi azionista, non mi fregare, io amministratore ha veduto, ho fatto bene i miei conti e non voglio essere messo di mezzo, tu non mi dai 55 milioni di euro di patrimonio, tu me ne stai consegnando 46, poi ne arrivano due in corso d'anno diventano 48, ma io rispondo di 48 e quindi al mio azionista che siete voi io dico sinceramente io rispondo di un patrimonio di 48. Se volete un altro amministratore che sia più compiacente rispetto al numero che avete in mente di 55 milioni di euro è semplicissimo, cambiate l'amministratore. Mentre c'è un altro aspetto che quando si fa un servizio dichiarativo si fa un servizio effettivo all'azionista perché possa fare scelte avvedute, perché se l'azionista pensa di avere in mano delle società che valgono tanti soldi, magari passa un acquirente che fa una proposta di acquisto di azioni, ma l'azionista convinto di avere in mano la gallina dalle uova d'oro rinuncia a fare degli affari. Quindi, che l'azionista sia edotto di quale potrebbe essere, dico potrebbe essere perché tutto è opinabile, quale potrebbe essere il valore realistico nel luglio 2013 del suo patrimonio, secondo me l'azionista ne riceve un vantaggio. Quindi è doveroso che l'amministratore si esponga, si esprima, finisca sui giornali, ma dica come la pensa. Detto questo, non voglio rubare altro tempo al dibattito. Sono a vostra disposizione, potete entrare nei dettagli delle carte che avete ricevuto e risponderò volentieri. Bene, grazie. Quindi, il dottor Borto è adesso a disposizione del Consiglio per eventuali delucidazioni o la risposta a quesiti che verranno fuori dalla, emergendo dalla discussione. Discussione che apro con l'intervento del Consigliere Macera. Prego. Signor Presidente del Consiglio, signor Sindaco, signori consiglieri, ho cercato di leggere con attenzione la proposta di deliberazione che viene sottoposta oggi all'approvazione del Consiglio Comunale e ho ascoltato i precedenti interventi con giusto interesse. Mi limiterò pertanto a porre delle domande e a fare delle osservazioni che, se non spesso in linea con le proposte della maggioranza, mi auguro che vorranno essere almeno considerate come un serio contributo alla discussione. La proposta di operare una riduzione del capitale della Luca Holding a me pare contraddittoria con il fatto che la società ha registrato nell'esercizio 2012 ricavi per euro 2.682.103 e un risultato positivo di 1.854.221 euro. L'estrema positività economica della società viene confermata dalla decisione di liberare e di distribuire con delibera del 17 aprile 2013 riserve per l'importo di 1.778.926 euro a favore del socio unico. Non mi è mai capitato di vedere anche se ammetto di non essere un tecnico in materia che una società la quale presenta utili di bilancio non indifferenti e che si sente tanto tranquilla della propria situazione economica da distribuire le riserve ordinarie proceda contestualmente alla riduzione del proprio capitale. A mio parere non esistevano dunque con riferimento alla Luca Holding situazioni economiche tali da giustificare tale operazione sul capitale che viene così impoverito. Questa osservazione che mi permetto di fare è tra l'altro confermata dall'analisi delle cosiddette perdite patrimoniali indicate nella relazione dell'amministratore unico in euro 7 milioni 1398. Due di queste cosiddette perdite Polis e Lucaffiere congressi per un ammontare complessivo di euro 5 milioni 366 mila 199 sono spiegate con la considerazione che gli immobili di proprietà hanno perso parte notevole del loro valore a causa della crisi mondiale dei prezzi degli immobili. A questo proposito mi pregio rendere noto, anche se so che tutti voi conoscete bene la situazione, come tutte le società con grossi patrimoni immobiliari si trovano oggi nelle medesime condizioni, con una perdita di valori che in talunni casi ha raggiunto il 50% e con notevoli perdite di esercizio, ma non si conoscono casi di operazioni di riduzione del capitale. Sarei interessato di conoscerne se qualcuno di voi volesse citarmeli con nome e cognome. Credo dunque che si tratti di una situazione chiaramente congiunturale e non strutturale. Negli Stati Uniti, per esempio, da dove è partita la crisi, sono già stati individuati segnali di ripresa. Di quanto ho ora detto, credo me ne dia ragione ed atto l'amministratore unico il quale ha scritto, ripeto parola per parola, parimente la prudente proposta di svalutare immobilizzazioni di cui la holding è titolare in società che operano in settori attualmente penalizzati dalla difficile congiuntura esterna, eviterà in ogni caso di subire inattesi contraccolpi economico-finanziari nel caso in cui il prolungamento della crisi dovesse indebolirle, senza comunque precludere la possibilità di ripristinarne il valore iscritto in precedenza, nel caso in cui si dissolvano i fattori di incertezza che al momento caratterizzano il comparto immobiliare, quello dell'organizzazione di fiere dei congressi, ma anche quello della gestione dei vari servizi, che dovranno trovare copertura finanziaria tra le entrate della nuova Tares. Mi chiedo allora, e spero mi si voglia rispondere e convincere, se si riconosce il carattere congiunturale della situazione, tanto da ammettere la possibilità di ripristinare il valore iscritto in precedenza. Perché, mi domando, la montare del capitale di una società viene visto in modo così elastico, quasi fosse una fisarmonica, a secondo della congiuntura? Io penso che voi dobbiate vedere e prendere atto dell'assurdità di una tale concezione, in vista di ipotetici inattesi contraccolpi economico-finanziari nel caso in cui il prolungamento della crisi dovesse indebolirle. Si ammette dunque, anche da parte vostra, che si tratta di pericoli futuri ed inattesi. E io non posso che ringraziarvi di darmi ragione, ma ciò nonostante, subito dopo, mi proponente l'aberrante riduzione del capitale. Quanto alla misura della pretesa perdita, essa non può essere giudicata senza conoscere i criteri della relazione di stima, di cui giustamente si parla nella relazione che mi sono letto dell'amministratore unico. Limitandomi a termini generali, credo si debba ritenere, così mi è stato sempre detto dai competenti in materia, che oggi la stima degli immobili è assolutamente generica e discrezionale, perché il prezzo a cui è presumibile si trovi un compratore è praticamente impossibile da determinare. Chi è costretto a vendere deve svendere senza valori certi. Questo, oltre che essere un ulteriore motivo per non procedere a una riduzione del capitale in piena crisi del mercato immobiliare, rende inattendibili qualsiasi stima se non vengono evidenziati i criteri con i quali essa è stata ridotta. Poiché la situazione patrimoniale, che ha portato alla proposta di riduzione del capitale, influisce solo sul bilancio consolidato, la cosiddetta perdita avrebbe dovuto essere preventivamente accertata dal bilancio o dallo stato patrimoniale delle società interessate, non essendo sufficiente a questo scopo un'operazione unicamente da parte della holding, perché si determinerebbe una discrasia tra il bilancio delle singole società e quello consolidato della holding. Ma quello che è più grave di tutto questo, e questo davvero desidero segnalarlo come fatto abnorme, se, come sembra, avete sentito bene che ho messo davanti un se, sui bilanci delle tre società, la holding si è espressa favorevolmente approvandoli. È singolare, almeno per me, consigliere comunale di opposizione, che in questa ricerca dei nei della Luca Holding non vi sia traccia del buco nero rappresentato dal CLAP. Questa società è stata praticamente svuotata attraverso il conferimento del ramo operativo alla SRL, lasciando all'interno del CLAP posto in liquidazione solo gli immobili. Per il CLAP si sarebbe dovuto fare, a mio giudizio, quanto è stato proposto per altre società, e a maggior ragione. Ma su questo argomento sono sicuro che interverranno consiglieri più preparati di me, e quindi non vado oltre. Limiterò il mio intervento a soli tre veloci punti. In relazione alla presunta perdita della società sistema ambiente, 3.676.248 euro, essa causa ed effetti molto particolari, perché condiziona la relativa tassazione a carico dei cittadini, posto che la legge impone che i costi siano coperti integralmente dalla tassa a carico di essi. Quindi era indispensabile, a nostro giudizio, che ciò venisse rilevato in sede di approvazione del bilancio di quella società, il quale non poteva essere approvato senza prendere atto di questa situazione. Sinceramente non ci appare ecco che i cittadini debbano pagare oggi dubbi che riguardano il futuro, quale ad esempio il carattere inesigibile di alcuni crediti, o il residuo avviamento a suo tempo contabilizzato, perché ciò produce l'incidenza dei soggetti potenzialmente diversi. In definitiva, avrei molte altre cose da dirvi, ma forse vi ho tediato abbastanza. Devo tuttavia sottolineare, in primis, il breve tempo che abbiamo avuto per poterci preparare su un argomento così complesso ed importante. In secondo luogo, la lettura della relazione dell'amministratore della Luca Holding fa sorgere a noi forti dubbi sulla pretesa valenza giuridico-economica e dimostra solo un discutibile tentativo di evidenziare un'inesistente debolezza del sistema delle partecipazioni comunali, sia per allineare Luca alla tragica situazione delle partecipazioni pubbliche in Toscana, sia per la tesi politica di un'insufficiente gestione precedente. Infine, nel parere del Professor Barracchini del 31 maggio 2013, si affronta tra l'altro il problema dell'affidamento all'Assemblea, anziché al Consiglio di Amministrazione un potere gestorio di portata generale. Esso viene negativamente risolto per quel che riguarda la società per azioni scrivendo «la previsione di un'eventuale competenza assembleare in materia gestoria dovrebbe avere in ogni caso carattere specifico e delimitato. Non si ritengono infatti ammissibili le clausole statutarie che attribuiscono ai soci un potere gestorio di portata generale o comunque indifferenziata, finendo in tal modo per capovolgere l'assetto legale di competenze previsto dall'Espano». Questa tesi, se non ricordo male, è la stessa che in varie sedute, della Commissione partecipata, alle quali ho assistito quale Presidente Geal, l'allora Presidente della Luca Holding si premurò di illustrare, spiegandoci l'impossibilità giuridica nella SPA di affidare tutti gli atti di straordinaria amministrazione all'Assemblea a scapito del CDA. Mi permetto di terminare dicendo che forse non vera bisogno di spendere 20 mila Euro per detto incarico e nel contempo concludo dicendo al Sindaco che desidereremmo sapere quale posizione intenda prendere l'amministrazione in merito alle gare che determineranno il futuro della Gesam. Non solo chiediamo che il Sindaco dica quale sarà la strategia di Gesam SPA per la gara di concezione e servizio distribuzione gas, ma riteniamo che il Comune debba accelerare le procedure in quanto Luca è l'ente appaltante. Il tempo stringe e non vorremmo commissoriamenti da parte della Regione. Vi ringrazio. Grazie a lei consigliere Macera. La parola a questo punto al consigliere Bertolucci. Sì, grazie Presidente. Tanto per dire che questa pratica è passata dalla Commissione partecipata e ha avuto esito favorevole la discussione e la votazione. E poi per dire che dietro che questa pratica, insieme a quella che discuteremo dopo, come tutte le altre pratiche che arrivano in Consiglio e si portano dietro un lavoro di tanti amministratori, dirigenti, consiglieri, anche impiegati molto. In alcuni casi, dietro queste pratiche, si può vedere che c'è stato un lavoro di regia politica, una strategia. Possiamo leggerci un indirizzo. Soprattutto dopo le parole del Sindaco e dell'amministratore unico di Luca Odi, Andrea Bortoli, si delinea chiaramente come intende comportarsi questa amministrazione, la conduzione, nell'indirizzo e nel controllo delle società partecipate. Io vorrei centrare questo breve intervento più su considerazioni politiche che gestionali. Personalmente, anche perché personalmente ho avuto tutt'altra esperienza lavorativa rispetto ai temi della gestione aziendale ed economica e mi ero fatto un'idea che i bilanci, le relazioni fossero in qualche modo una materia fredda. Invece vi ho trovato contenuti, passatemi la parola, filosofici, tutt'altro che trascurabili. Ora, a me fa anche piacere tutto ciò perché umanizza in qualche modo la finanza e l'economia. Ma credo che tutto resti agganciato fortemente a un contesto reale. Lo dico non per gettare la croce su qualcuno, ma perché credo che come comunità, come società, abbiamo bisogno di acquistare una certa sobrietà nei comportamenti così come nelle valutazioni e anche nelle pretese. Le partecipate sono sotto gli occhi di tutti, di quelle del Governo, in quello delle aziende private che vi partecipano giustamente, perché attratte da un business a volte anche abbastanza garantito, in quello dei cittadini che si aspettano ai loro servizi adeguati ed efficienti, e in quello dei comuni e dei loro amministratori a cui i cittadini hanno dato la fiducia e che da questi hanno delle aspettative, dei ritorni, anche importanti. Purtroppo è probabile che un cittadino colga il valore di un'amministrazione più dalle buche che trova sulla strada e tralascia l'importanza magari del dibattito che oggi abbiamo qui. Però tanti comuni si trovano in difficoltà, in difficoltà serie proprio per la gestione delle commissioni partecipate, perché già non è il nostro caso. Luca, da anni ho ormai scelto una struttura di gestione da cui ad oggi, alla situazione attuale delle risorse su cui i comuni possono contare, non è facile uscire. Occorre quindi trovare la giusta alchimia tra le esigenze di un ente pubblico con tutto il suo carico di responsabilità politiche, civiche e società, molto spesso partecipate da aziende private che in ogni caso rispondono a normative e responsabilità altrettanto precise. Occorre trovare la giusta alchimia tra efficienza. Magari possiamo farci anche una riflessione su perché questa debba essere sempre attribuita in modo assolutamente prevalente all'iniziativa privata. E comunque fra l'efficienza e la tutela del bene comune, o che sia un servizio o una risorsa. Io credo che questa amministrazione si stia muovendo nel modo giusto. Della sovretà abbiamo già accennato, però voglio ritornarci. C'è anche un altro aspetto importante da sottolineare, almeno per me, che ancora penso che la credibilità dell'istituzione e di conseguenza della politica possa passare anche da comportamenti che non arriverei a definire virtuosi, ma anzi vorrei che per tutti fossero riconosciuti come normali, dovuti. Parlare di legalità non è appropriato in questo caso, ma diciamo che intendiamo uniformarci alla legge, eliminare quelle ambiguità più o meno evidenti su cui si sono costruite relazioni personali, programmatiche, economiche, tra società e società e fra queste. E l'amministrazione io credo che questo sia il messaggio che diamo alla città e che questo sia molto importante anche in termini culturali. Poi possiamo darci tutte le regole che vogliamo, ma soprattutto occorre coinvolgere e motivare le persone. E allora vorrei dire che tutti i nuovi amministratori che hanno accettato di mettersi in gioco, di farlo con sobrietà nei comportamenti, nelle economie, che poi è lo stile che contraddistingue questa amministrazione. Vogliamo dire che sono stati rinnovati 15 consigli di amministrazione, sono stati rinnovati o introdotti nuovi organi di controllo e tutto questo ha portato a un risparmio su base annua di 607 mila euro. È un risparmio del 52%. Ma soprattutto vogliamo dire che tutto questo lavoro non è andato a scapito della qualità e della professionalità? Permettetemi un po' di punze chiare, ma agli amici del centro-destra, sempre pronti ad richettarci, ad richettare insomma la sinistra come il partito delle tasse, mi viene da chiedere di dare loro una spiegazione. Non a noi naturalmente, ma alla città. Perché quei 607 mila euro rientrano nelle nostre tasche di cittadini, sotto forma di risparmio in bolletta, efficientemente, investimenti. Ma non è finita, anche all'interno di Luca Holding si sono dimezzate le spese di gestione. E forse questo non farà la felicità dell'assessore Siti, ma magari gli strappa un sorriso, no? Naturalmente tutto questo è stato possibile anche per la proficua interlocuzione con i soci privati, che hanno convenuto sia sulla necessità di una riduzione dei compensi, così come sulla direzione dei consiglieri, dei consiglieri di amministrazione. E questo credo che debba andare anche il nostro ringraziamento per aver capito come vuole muoversi questa amministrazione. ma va anche detto che una moralizzazione non può essere priva della dovuta permessa. E questo ha comportato magari anche una risoluzione di un contratto particolarmente oneroso e discutibile per un'azienda già un po' in difficoltà. Ma sobrietà è anche essere in qualche modo in sintonia con la realtà. La crisi non smette di essere pesante, nasce da una bolla speculativa. Siamo stati indotti a vivere oltre le nostre possibilità e di fronte alla crisi però noi abbiamo dovuto fare i conti con noi stessi, con il nostro futuro. Essere sobri, essere realistici, rendere credibili, più solidi, meno attaccabili. E io credo che avvicini le istituzioni al cittadino. Credo che premi anche le relazioni con il mondo economico e con il credito locale. Ecco perché ci sentiamo di condividere l'operazione di agguamento dei valori patrimoniali di alcune delle nostre aziende partecipate. Così come la scelta di scaricare parte della perdita di queste nuove valutazioni sul capitale sociale di Lucca Oltin. Nessuno poi ci vieta in un futuro, con una diversa congiuntura, di fare valutazioni diverse. Però occorre dire che le nuove valutazioni sono state fatte da chi aveva già fatto le vecchie valutazioni. questo per dire, poi magari risponderà meglio l'amministratore unico, ma era per rispondere un pochino così, dare a chi mi ha preceduto. Andrea Vorti di spesso parla di possibilità o meno di mostrare muscoli. Io dico, noi diciamo, che alla propria presenza preferiamo l'umiltà. Deve essere la politica a lanciare segnali forti, coraggiosi, di sostanza, ma anche lungimiranti, ideali. Personalmente credo che anche in questo caso non debba mancare l'umiltà. Grazie. Grazie, consigliere. La parola alla consigliera Giorgi. Grazie, Presidente. Intanto volevo esprimere tutta la mia difficoltà all'analisi di questo problema per il breve tempo avuto. E se io ho avuto delle difficoltà all'interno, non mi immagino i cittadini all'esterno e quindi non colgo che l'occasione per invitare l'amministrazione a poter, per maggiore trasparenza, avere tutto online, come già noi avevamo anche richiesto attraverso Open Municipio, che con 6.000 euro ci permetteva questi servizi. Però 6.000 euro a volte sono pochissimi, sono tantissimi, mentre magari a volte un milione di euro sono pochissimi. Questa è a seconda di da che punto si guardano le cose. Comunque vorrei anche invitare la cittadinanza proprio a una maggiore partecipazione e a capire che non è più il tempo di demandare e poi lamentarsi e che i tempi tanto non nel mio giardino oppure che i tempi tanto io me la cavo sono tempi finiti e che è importante, importantissimo che ognuno si svegli e si prenda le sue responsabilità e cominci ad osservare e a stare col fiato sul collo a tutti gli amministratori. Andando a schematizzare il suo problema di Lucca Holding, direi che abbiamo detto, sono tutti d'accordo, che c'è una perdita di Lucca Holding di 7 milioni di euro. Bene, questa perdita è dovuta alla svoluzione delle quote partecipative. In particolare Lucca Fiere 2 milioni e 9, sistema ambiente 3 milioni e 6, i polis 2 milioni e 4,50. Allora queste aziende, se andiamo a vedere da quella che è un'analisi sommaria dei documenti che ci sono stati dati, quindi sommaria e non chiaramente dettagliata, vediamo che sono addirittura inattivo. Allora c'è da chiedersi cosa è successo, cos'è che abbia determinato questa riduzione di capitale. Bene, andiamo a vedere che la riduzione di capitale viene determinata, almeno per quello che riguarda Lucca Fiere e per quello che riguarda la Polis, da una riduzione del valore immobiliare. Benissimo. Però per quello che riguarda per esempio il sistema ambiente non c'è solo una riduzione del valore immobiliare, c'è anche il fatto che il sistema ambiente era stata valutata di più perché si sono pagati anche quelli che sarebbero stati i probabili ricavi nei prossimi cinque anni. In realtà i ricavi sono risultati essere molto minori. E sul sistema ambiente il Movimento 5 Stelle ha anche il dento un po' avvelenato, perché già l'anno scorso, a luglio del 2012, aveva presentato una mozione dove chiedevano a due diligence, due diligence che poi è stata chiesta successivamente e fatta bilantemente da Bartoli, a ottobre però, e poi da Bartoli e poi abbiamo parlato solo a febbraio. Quindi noi avevamo stabilito, avevamo visto che c'erano un sacco di buchi, che poi chiaramente col tempo, per fortuna, un po' per fortuna, un po' per tante altre cose, si sono leggermente appianati, però il problema sussisteva. Quindi quello che noi vogliamo evidenziare è che noi vogliamo capire, vogliamo trasparenza e vogliamo capire. Abbiamo capito che ci sono una svalutazione dei capitali, bene, però noi vogliamo venire a sapere chi è che ha fatto la valutazione di questi capitali. Noi vogliamo venire, vogliamo sapere anche chi è che ha avvallato la decisione di questa quantizzazione dei capitali. Perché è fondamentale, possiamo benissimo fare un punto a capo, però se ripercorriamo in continuazione gli stessi errori, cioè se continuiamo a non andare a vedere gli amministratori, se continuiamo a non andare a vedere i responsabili, i dirigenti, i professionisti che hanno sbagliato, noi continueremo a sbagliare ancora. È da luglio del 2012 che noi abbiamo chiesto un emendamento di fare nelle partecipate, di mettere delle persone che presentassero i curriculum e che avessero delle esperienze e che potessero dimostrare una bravura, non una bravura politica, ma una bravura sul campo, una bravura come professionisti. Niente, non si arriva mai a niente. Allora diciamo, bene, a questo punto noi riteniamo che coloro che abbiano commesso errori non devono più ricevere la fiducia delle istituzioni. Gli incarici si danno ai professionisti solo ed esclusivamente per merito, non perché il politico li conosce o per fiducia politica. I beni sono nostri, sono dei cittadini, ed è solo il bene dei cittadini che si deve cercare, non certo la bella figura che sia essa di destra o che sia essa di sinistra. I tempi destra e sinistra sono finiti, non ho più voglia di sentire parlare, la destra ci dice, la sinistra ci dice. I cittadini vogliono sapere che i capitali che hanno, chi li fa funzionare deve far rendere, se non li fa rendere va a casa. Questi sono i concetti fondamentali di cui dobbiamo parlare. Quindi i tempi sono maturissimi per i cambiamenti reali, sindaco, non fittizi, i cambiamenti reali. E i cittadini è tempo che si sveglino e, come ho già detto prima, mettano il fiato sul collo a tutti gli amministratori, altrimenti poi chi si lamenterà non venga a cercare, perlomeno me, perché non lo ascolterò sicuramente. Grazie. Grazie, consigliera Giorgi. La parola al consigliere Angelini. Signor Presidente, signor consiglieri, il mio difetto è quello di appassionarmi troppo problemi, in qualche modo di prendere l'alza. Invece vorrei oggi prendere l'alza, perché in qualche modo questa delibera non merita una grande considerazione. Io ricordo soltanto che il 12 luglio, Dottor Bortoli, non essendo, 12 luglio 2012, Dottor Bortoli, non essendo neppure amministratore delegato da Luca Holding, di fatto fece il suo primo ingresso nell'assemblea del club per la nomina del famoso famigerato De Girolamo, e naturalmente è passato un anno fino ad ora. Io penso che si poteva fare il punto di una situazione che è complessa e difficile, ma che meriterebbe attenzione. Credo che la proposta che viene qui fatta, insieme a cose positive, il risparmio che ci sono nel consiglio di amministrazione, la cacciata di alcuni dirigenti che pesavano sulla Luca Holding, ci porta a dare un giudizio positivo da questo punto di vista al Dottor Bortoli, che è un buon ragioniere e un buon cacciatore di teste. Però io credo che oggi, a un anno di distanza da questa nomina, da questo impegno a rilanciare il sistema delle partecipazioni e soprattutto di portarlo all'attenzione del consiglio comunale, a rifarlo diventare un fatto della città, come ha detto Bortoli, ma perché passa attraverso i suoi rappresentanti. Ecco, questa occasione poteva essere fatta oggi, ma in qualche modo è un'occasione persa, perché si traduce, a mio avviso, in un'operazione di facciata, di deviazioni da alcuni problemi che sarebbero più importanti di quelli modesti, dell'abbassamento di un capitale che, a mio avviso, era un'operazione del tutto inutile che ci potevamo risparmiare. Naturalmente, penso che si debba partire dal fatto che l'andamento della società, della Luca Holding, è positivo. Se l'utile è un milione, ottocenciquattro quattro mila, duecento ventuno, vuol dire che è una società che ha gestito bene e che meriterebbe in qualche modo di essere però affrontata nel quadro della politica nuova che la nuova amministrazione prospettava con un taglio nuovo e diverso. La relazione che io ho letto del dottor Bortoli, molto attenta, anche se parte da lontano, dalla crisi mondiale, ecco, che ci riguarda, naturalmente, ma in qualche modo su cui possiamo fare così poco. L'assessore Bortoli ricorda quelli che erano gli impegni che il Consiglio Comunale gli aveva dato per il rilancio delle aziende partecipate. Fra questi, ma ci ritornerò, non posso condividere che l'impegno fosse quello di favorire la partecipazione del Club SPA al processo di riordino di assetto societario delle aziende di trasporto pubblico locale. Noi sappiamo che questa amministrazione, per buone ragioni, forse per ragioni che non possono essere superate, ha dato inizio a un inadeguamento progressivo, a una deficienza totale. L'assessore Bortoli qui è contestato ogni giorno perché i cittadini sanno che i servizi di trasporto vengono ridotti continuamente. Poi si potrà dire, io ho le mie idee, però penso, e ci ritornerò, che la liquidazione del Club, che secondo il segretario del Partito Democratico Francesca Pacini, e questo mi tocca particolarmente perché è la figlia di Arturo Pacini, mio amico, che insieme a mio padre Cesare Angelini fondò il Club. Sentire da lei, fra i meriti di Tambellini, portare la liquidazione del Club, evidentemente mi disturba un po' perché penso che le parole sono diverse, ecco, per me la liquidazione del Club è stata un errore gravissimo, da cui non ci riprenderemo in nessun modo e da cui non può partire la liquidazione del Club e il conferimento dei cittadini nord, una nuova politica dei trasporti. Naturalmente il Dottor Bortoli dice di aver sollecitato anche le società partecipate dove esercita il controllo, ha una sorta di prudenza, però ecco, a mio avviso, questo non è, come dirò, non è sempre avvenuto. E naturalmente io penso che su molti degli indirizzi che il Consiglio Comunale aveva a lui dato, in particolare quello di si otporre a revisione gli statuti, ne parleremo nella pratica successiva, in modo da permettere al Consiglio Comunale di diventare il luogo dove si fa la politica delle partecipate, questo indirizzo, a mio avviso, è stato tradito e non è stato portato a compimento, come spiegherò nella delibera successiva in cui si fanno proposte diverse da quelle che io al tempo avevo fatto. Ora, io non voglio dilungarmi appunto moltissimo, anche perché devo dire che l'intervento di Macera, con cui in larga parte concordo che si riprese alcuni punti importanti, non concordo soltanto sull'ultimo punto che riguarda in qualche modo il ruolo delle società e delle altre cose. Ecco, Macera ha detto, e io riprendo alcuni temi, posso dire che dal punto di vista di noi, nella politica economica della nostra città, del nostro territorio, del nostro paese possiamo incidere poco, posso dire che non è un buon segno per l'economia, neanche per l'economia immobiliare, che è in profonda crisi, ridurre così drasticamente i valori dei beni, che vuol dire trasformare o accettare questa misura che potrebbe o si spera di essere congenturale in una misura strutturale, perché se noi, l'ente pubblico, fa questa situazione dei beni, è indirettamente, sollecita tutti gli altri e l'economia a vedere nei beni immobili un bene, non più rifugio, ma in profonda crisi e in qualche modo un segno di debolezza e di mancato rilancio. Credo anch'io quindi che bisognava pensare di più se questa misura era utile in questo momento, tanto più, come ha detto giustamente Macera, che se era indispensabile mettere a pulito il valore dei beni immobiliari, parlo soprattutto per Polis e per Polo Fiere, mi sembrava in qualche modo preliminare che questo venisse fatto nell'approvazione dei bilanci della società, cosa che non è stata evalto, dice Macera, se l'ultimo era approvato, se non l'avesse approvato i bilanci sarebbero stati bocciati. È evidente che una svalutazione della partecipazione in queste società immobiliari sarebbe stata in qualche modo più corretta se fosse stata preceduta da un'analoga svalutazione di bilanci dove la svalutazione dei beni immobili non c'è stata, nonostante che Luca Olding li abbia approvati, senza cambiare una virgola. Devo dire una cosa che mi ha fatto male un tempo. Lei si ricorda quando si parlava della Tares della possibilità di non aumentare di 10 centesimi a metro quadro la Tares, cosa che poi è stata annullata dal governo. Io dissi, guardate, preoccupiamoci dei bilanci del sistema ambiente, perché essendo la tariffa commissionata al servizio, il sistema ambiente dovrebbe in qualche modo non produrre utili e produrre, almeno nei limiti in cui non si veda la rimunerazione del capitale. Questa è invece una società strana che produce utili, certo che vengono, mi sembra, i cittadini pagano di più per i servizi scarsi che il sistema ambiente dà la città e Luca Olding e il Comune lucra su questi, ma anche uniendo, anche il socio privato, lo ridico qui, che non ha nessun merito nella gestione della società sistema ambiente, lucra su questo. Questa è una vecchia battaglia cominciata da Pitti nel 2006 con una giusta considerazione. L'utile ci può essere, ma diciamo di modeste entità. E allora io dico, il paradosso è che il sistema ambiente produce un utile. Lei mi disse, non si può, le società, le SPA non si può distruttere. Io dissi, c'è un, diciamo, un utile di bilancio prima del pagamento delle tasse erariali di un milione e ottocento mila euro. Ecco, viene, si distribuisce il milione e ottocento mila euro senza ripianare le persone. Le pezzo dite che qui vengono in qualche modo a gravare sulla locale. Questo poi, in qualche modo, mi sembra una cosa anomala e che non è giustificata, perché non ci sarebbe stato nessun bisogno di ridurre il capitale sociale se quegli utili, invece di essere distribuiti, fossero andati in qualche modo a compenso di questi debiti su cui voglio andare. Diverso anche il ruolo e anche le valutazioni rispetto alla polise e rispetto al polo fiere. Giusto al limite, voglio dire in teoria, io non avrei fatto niente, ma ridurre il capitale della polise che non si è fatto e comunque ridurre la partecipazione della Luca Holding nella polise, perché la polise è ancora caricata di un sistema di edifici e residenze che devono essere ancora vendute e che evidentemente devono andare su mercato e quindi è possibile. Ma che c'entra Polo Fiere? Polo Fiere, sappiamo tutti che è un buco negro, ma non vedo nessuna utilità, soprattutto se si vuole un ricordato al limite, se si vuole vendere, come io ho detto in campagna elettorale, qualche volta l'ho sentito dire anche lei, a deprezzare così e svalutare gli immobili di questa società. E naturalmente voglio anche dire questo, l'ha detto Macere che lo riprendo, si cita perizie che non vengono presentate. Ora, io non voglio farne una questione, per curiosità io sono, diciamo, giurista, ma io avrei conoscenza, se può signor Sindaco, non oggi, avere le perizie che sono alla base di queste cose. Perché io vorrei sapere chi ha scritto queste perizie e cosa ci ha scritto, perché giustamente è stato detto, sui beni immobili chi ha il grado di fare perizie sul valore dei beni in una situazione come questa, dove non esiste un mercato, dove non c'è un compratore? E come si fa allora a avere una perizia che giustifichi l'abbattimento del capitale? Credo che non ci sia questa, diciamo, possibilità. Naturalmente tutto si svaluta. Ha detto giustamente Macera, ripeto anch'io, del Frappe non c'è memoria. Ma scusate, mi sbaglio, o il Frappe aveva due società finanziarie, per complessivi 15 milioni, società immobiliari, una finanziaria a Lucca, una finanziaria a Vialeggio. Ma che fine ha fatto? È stata svalutata questa partecipazione? C'è sempre nel bilancio della Lucca Holding. Io credo che questo è un buco nesso su cui almeno meriteremmo una qualche risposta. e naturalmente non voglio dire che più passa il tempo, io, voi sapete, l'ho detto sui giornali, faccio di fronte a un'amministrazione che non ascolta, non voglio dire che decide quello che dico io, che lo propongo, che non ascolta, uno si rivolge ad altri diritti. Io ritengo ingiustificata la liquidazione del Frappe, ma ritengo che le modalità con cui si è operato siano state un esempio sbagliato di depreciamento, impoverimento e liquidazione del patrimonio comunale. Io ricordo sempre che se è cominciato in questa assemblea con una presenza nella futuro città di notte del Frappe del 12%, siamo finiti a 7% e nessuno ha ben capito se queste sono nel frutto di valutazioni patrimoniali come si dovrebbe essere fare. E naturalmente io sono convinto invece che sono il frutto di valutazioni politiche che per fare entrare Pisa nel CTT Nord gli si è dato praticamente la maggioranza, il 40%, e perfino la TL di Livorno, che è una società che aveva il doppio del deficit, quello di Lucca e del CLAP, in qualche modo ha una quota il doppio della nostra. Allora noi siamo fatta una scelta politica sbagliata e la liquidazione del CLAP la paghiamo tutti. Dalla cosa banale, 35, il giornale è scritto 55, 35 assunzioni a tempo determinato per le sostituzioni estive, non c'è un lucchese, tutti i pisari e le bornesi, vorrà dire che non ci siamo in questa azienda. E i contratti di manutenzione, eccetera, non esiste più a Lucca in qualche modo un'azienda che lavori per il CLAP. Dobbiamo allora dire che su questo punto c'è stata una penalizzazione del lavoro e dell'economia lucchese con la scelta sbagliata, perché se il CTT Nord, come a me pare possibile, non vincerà la gara, noi, a differenza di Pisa e di Livorno, rimarremo senza una soltura e il trasporto pubblico locale, che è in grave crisi, andrà praticamente in liquidazione. Scusi, ancora cinque minuti. Sì, vado brevemente. Voglio anche dire che Banci, il privato che governa questa società pubblica, ha riunito sindacati, se il sindaco lo so se lo sa, e ha fatto per rientrare nei criteri del bandolo pubblico lanciato da Rossi, da Regione, ha detto che bisogna ridurre il personale di 250 persone. Siccome io mi ricordo le vostre assicurazioni che il personale non si tocca, eccetera, ci affarano gli altri figi, io mi auguro che almeno queste 250 persone siano concordate con i sindacati e mi auguro che non siano quasi tutti lucchesi, come è prevedibile che vada a finire. E il Comune e l'amministrazione, e lei Tambellini, e lei Dottore Bortoli, avete il dovere di fare questo. Un altro buco nero, io voglio dire. Qui, appunto, poi sarebbe, non voglio dire, dell'assalto non si parla, poi non abbiamo parlato. Da utili, noi diciamo, abbiamo detto, bisogna occuparci. Dell'assalto non si dice niente. Della Gerram non si dice niente, che avrà un appalto in quest'anno importantissimo per la gestione del servizio gas. E voglio dire un altro vuoto assoluto, Dottore, le farmacie comunali. Non c'è una parola. E io ricordo agli immemori che la nostra prima battaglia, noi di governare Lucca nel 2007, l'abbiamo fatta su questo punto. Ci chiedemmo, chiedemmo pubblicamente, come è possibile che una società come quella della farmacia comunale, con sei farmacie, vada in rosso alla fine di un anno o non abbia nessun utile. Sarà un problema. E ci vennero dietro alcune persone che, la direttrice della farmacia di Lucca da Bragagnolo o Francesco Puccinelli, licenziate. Ecco, voglio dire a Dottor Borsoli che Francesco Puccinelli, uno dei licenziati perché insieme a noi aveva fatto questa politica per la trasparenza delle faccine comunali, ha vinto la causa dopo tre anni in cui non prende lo stipendio e il pretore del lavoro, scusate, il giudice del lavoro ne ha chiesto il reinserimento nella società. Dopo tre anni si può pensare che Luca Holding non convince questi soci energumeni delle farmacie comunali a non ricorrere in appello a portarla avanti, ci si vuole perlomeno rispettare una sentenza. Anche questo faccio appello a voi. Naturalmente io avrei molte cose da dire, arrivo in fondo però quelle che mi sono cosa. Una cosa però ci preme in risalto Dottor Borsoli. Quello che lei mette all'inizio della sua pagina, tre risi, quando dice Luca Holding si carterizza essenzialmente come holding cosiddetta pura e si distingue dalle holding operative che per conto delle controllate svolgono servizi di base eccetera eccetera. Permetterà, siccome ho fatto questa battaglia, diciamo, nell'amministrazione sorda di Mauro Famiglia, la ripeto anche a lei. Ma questo è un problema aperto, perché la holding operativa è una discussione. Io le pongo il problema, se la holding operativa in una realtà di società partecipate di maggioranza del comune può o deve essere realizzata, cioè una holding che centralizza nella holding i servizi giurisdizionali, l'ufficio legale, le acquisizioni di beni, gli investimenti finanziari. Questo secondo me andrebbe fatto con quel regolamento delle società partecipate che voi in qualche modo proponete per altri fini, in modo, lo esaminerò in modo improprio, ma che qui mi sembrerebbe sicuramente pertinente. Allora, oggi votiamo questa, diciamo, pratica che dà fumo negli occhi alla gente che non risolve nessun problema, che non affronta neanche le linee strategiche delle società partecipate e della lucca holding. Ecco, io spero che ci sia l'occasione per ripensare tutti questi problemi aperti che io anche offro alla vostra attenzione, perché meriterebbero di essere disgusti quei buchi neri che invece qui sono con, per concordare quelle linee strategiche delle società partecipate che io credo che il ha ancora la capacità di fare, se vuole, riportando, lo diremo dopo, nel Consiglio Comunale il luogo dove si decide, si programma, si cordia e si controlla. Ecco, il mio voto quindi sarà negativo, perché l'oggetto di questa delibera è, diciamo, ininfluente per la politica delle società partecipate e mi aspetto e spero che oggi o domani sulle società partecipate, come lunedì, come martedì se lo faremo, sulla politica romanistica si riesca a trovare una via comune. Concludo, Presidente, io non sono qui, qui dici il centro destra e centro sinistra, io mi sento uno, cioè, non mi sento come tanti, come fa il Movimento 5 Stelle, ma in maniera diversa, perché propositiva, vedo l'inidonità, l'inadeguatezza dei due poli di centro destra e centro sinistra. E sono favorevole, perfino al governo Enrico Letta, valuto negativamente tutta questa fibrillazione di Matteo Renzi, perché penso che nel nostro Paese, senza una riconciliazione, una riconsiderazione e un ritorno della politica sui problemi, non sulle contraposizioni formali e, diciamo, ideologiche che non risolvono nessun problema come dimostrato da vent'anni, su questi si possa ritrovare un cammino comune. Io, per quanto mi riguarda, pur con le critiche che ho presentato, cercherò di dare un contributo positivo su un problema, quello delle società partecipate, che non è stato toccato, se non inadeguatamente come nel caso delle tratte, ma che io mi auguro attraverso questa nuova amministrazione si possa guardare con migliore concretezza e prospettiva di soluzione. Grazie Presidente, buonasera a tutti. Il mio intervento sarà breve, perché molte cose sono già state dette sia dal Sindaco che dall'amministratore Bortoli, che da chi mi ha preceduto, il consigliere Bertolucci. Però quello che vorrei che fosse chiaro a tutti è che questo Consiglio Comunale è stato fortemente voluto da questa maggioranza, fortemente voluto a completamento di un anno di lavoro svolto da parte dell'amministrazione Tambellini attraverso l'amministratore unico, il dottor Andrea Bortoli, intanto come punto di arrivo per una revisione di bilanci e poi comunque come punto di partenza per la riorganizzazione del gruppo holding, delle società partecipate, ma aspetto ancora più importante come primo appuntamento di quello che ci auguriamo essere un appuntamento fisso annuale in merito proprio a quello che è il risultato di gestione della holding come risultati appunto di bilancio. Quello però che ci destra molta soddisfazione è il fatto che il lavoro svolto in questo anno rispecchia in pieno sia la linea programmatica del programma elettorale del sindaco Tambellini, sia in maniera più stringente quelle che sono le osservazioni che sono state da lui fatte durante l'approvazione del bilancio della holding il 26 luglio del 2012. Quello che anche è importante ribadire è che il dibattito di oggi è necessario ed è ampio per dare un'informativa nella sede istituzionale opportuna di quello che avviene appunto in un bene, quello della holding, che è un bene di tutta la città. E quindi detto questo penso di rispondere a chi dell'opposizione in questi giorni preparatori a questo Consiglio, ci ha chiesto perché ci fosse tutta questa enfasi da parte nostra, perché noi consideravamo questo Consiglio appunto un punto di arrivo e un punto di partenza, ma aggiungo a livello personale, io lo vedo proprio come un voto di fiducia, di fiducia al lavoro svolto, di accordata fiducia al lavoro minuzioso che sta dietro ad ogni numero che riporta questo bilancio. Perché viene ridimensionato il costo di gestione della holding, vengono ridotti i compensi dei membri del CdA e degli organi di revisione, viene diciamo ribadita la voglia, l'implementazione dell'efficacia del controllo sugli atti effettivamente svolti, cosa che verrà poi analizzata nella prossima pratica. E la revisione appunto delle partecipazioni, del peso delle partecipazioni, del bilancio holding, alla luce di un principio di prudenza. Questi punti chiaramente sono illustrati nella relazione sulla gestione del Dottor Bortoli, pagina 2 e pagina 4, ma io ho riportato chiaramente quelli che appunto qui vengono analizzati. Comunque per focalizzare il mio breve intervento, io vorrei dire che mi preme portare all'attenzione del Consiglio e comunque di tutta la città il fatto che quello che viene oggi deliberato non è la mera svalutazione di qualcosa che si credeva che valesse di più o qualcosa che invece vale di meno e tantomeno riportare alla città un risultato economico negativo. Quello che è importante sottolineare invece è la valorizzazione del patrimonio della holding, che si traduce nella valorizzazione di un bene per la città. Infatti le svalutazioni poste alle partecipazioni in carico dovute alla dubbia esigibilità di crediti a voci di avviamento che non sottostanno a reali possibilità di sviluppo, a valori immobiliari non in più in linea, poggiano il valore della holding su basi solide. L'operazione quindi non può essere vista come qualcosa che indebolisce, ma bensì come qualcosa che rafforza un patrimonio investito, proprio come diceva lo stesso amministratore prima. La discontinuità con il passato quindi si traccia in questa visione di bilancio non perché quello che è stato fatto fino adesso può essere considerato sbagliato, ma perché nella forbice della valutazione, e lo stesso termine suggerisce la soggettività di questo aspetto, la precedente gestione si era attestata su piani più indulgenti e magari meno prudenti, proprio anche di fronte a situazioni macroeconomiche diverse. Ma lo stesso codice civile rende possibile la svalutazione laddove i valori di carico delle immobilizzazioni, in questo caso di immobilizzazioni finanziarie all'interno del bilancio della holding, siano considerate di perdita durevole di valore. Tutto questo chiaramente alla luce di perizie richieste agli stessi soggetti che già precedentemente le avevano svolte, di un lavoro di due diligence sul sistema ambiente che lo stesso amministratore unico Andrea Bortoli ha portato in commissione controllo e garanzia, come ha ricordato anche la consigliera Giorgi. Pertanto si è arrivati sì a un valore negativo di 7 milioni, però la volontà di questa amministrazione è quella di mettere un punto alla gestione precedente, di mettere un punto all'introduzione di un criterio di prudenza maggiormente stringente sulle valutazioni di bilancio. E pertanto la volontà di ridurre il capitale sta nel fatto di non voler portare avanti perdite e quindi non voler ipotecare gli utili futuri della gestione holding per il Comune di Lucca. Infatti riteniamo più che ragguardevole, soprattutto congruo, un capitale sociale di 48 milioni a fronte di un attivo complessivo di circa 65 milioni per un indebitamento di 13 milioni. Pertanto il voto di Lucca Civica, che in questo caso io di cui faccio parte e quindi che rappresento, sarà favorevole alla delibera, anche perché siamo convinti di percorrere la strada giusta nel momento in cui riportiamo sobrietà in quello che è il primo mezzo tra il Comune e le società partecipate, la holding appunto, con anche una sobrietà di gestione già ricordata dal consigliere Bertolucci, che ha parlato di un risparmio generale di circa 600 mila euro. Ora, io credo che queste cifre cosiddette sembrino assolutamente spropositate e quindi vorrei portare qualche esempio più stringente. Lucca Holding, con i cinque membri del Consiglio di amministrazione precedente, aveva un costo di 129 mila 600 euro. L'amministratore unico ha un compenso di 30 mila euro l'annuo. Quindi già solo questo può far capire la reale differenza di spesa. Chiaramente tutte queste revisioni dei compensi e anche del numero degli amministratori è stato necessario per quanto riguarda la spending review, ma l'amministrazione si è fatta trovare pronta davanti a questo, perché tutto questo era appunto già parte della volontà politica di Tambellini e delle forze che lo hanno sostenuto. Pertanto ringrazio sia il lavoro svolto, sia l'amministratore unico per il lavoro svolto, sia il sindaco, perché ha voluto rendere note alla città tutte queste dinamiche e io credo proprio che il dibattito oggi in questa sede ne siano la testimonianza. Grazie. Grazie a lei, consigliere Lucchesi. Consigliere Monticelli. Grazie, Presidente. Confesso che io non ho potuto legge o approfondire più di tanto la pratica abbastanza articolata e anche diciamo abbastanza completa e complessa. Però, ecco, posso dire, affermare che ho seguito con particolare interesse sia la presentazione della pratica del sindaco, ma poi anche in particolar modo, diciamo, dell'amministratore unico dottor Bottoli e di rimando anche le controdeduzioni del consigliere Macera. Ecco, io certamente riconosco il dottor Bottoli, la sua buona fede, il suo ben agire, proprio perché, come è stato esplicito, ha riferito per lui e a lui è stata consegnata una società da gestire e lui vuole partire da dei numeri certi, da dei numeri ottimali per poi rispondere a tutta la città stessa. Ecco, però, io poi vi rimando, ho fatto anche un'analisi un po' così veloce, però dico, ma veramente, questo ridurre il capitale, questo svalorizzare le mobilizzazioni, se fosse stata una società privata, si sarebbe adottata lo stesso metodo o forse anche un certo tipo di superficialità o di egoismo anche come amministratore, perché io devo riconoscere che il dottor Bottoli è molto zelante, molto attento, molto cauto e quindi però non so se in questo momento e con questa pratica effettivamente si fa l'interesse, diciamo, della città e dei cittadini. Questo è un punto di domanda che mi sono posto, che continua a farmi e mi sembra anche che è stato ripreso, diciamo, dal consigliere Macera. Questo è un po' l'aspetto che mi rende titubante ad approvare la pratica e tra l'altro appunto annuncio al Consiglio che mi asserrò da votarla, veramente per questi motivi. Può darsi che è un'operazione che oggi premia la holding, ma domani, eventualmente non sappiamo, potrebbe penalizzarla. Ecco, è una scelta, a mio avviso, abbastanza forte, fatta, diciamo, dall'amministratore unico della holding. Ecco, volevo semplicemente affermare questo. Poi riconosco anch'io che si sono fatti dettagli significativi, tagli importanti, si sono abbassati i costi di gestione, anche se la gestione di per sé è una gestione ad oggi positiva. Veramente, c'ho qualche perplessità, è per questo che dichiaro la mia attenzione. Grazie. Grazie, Consigliere Monticelli. Do la parola al Consigliere Battistini. Il suo gruppo ha ancora 33 minuti. Fatto? 33. Credo che sia giusto anche, arriva a dire per l'ennesima volta, che di fronte alla pratica complessa, come è quella dell'azione di un bilancio del Luca Holding, sia importante partire da cifre semplici, non interpretabili e che possano tutti comprendere in maniera diretta anche quei cittadini a cui riconosciamo forse scarsa intelligenza, quando si fanno certe affermazioni, però ci sono anche cittadini che si informano o che pure, delegandoci a rappresentarli in Consiglio Comunale, ci chiedono spiegazioni. Quindi eviterei anche dopo in poi di parlare di pratiche difficili o incomprensibili. Bisogna studiare, bisogna lavorare e bisogna anche sacrificarci sopra. Io partivo da alcune cifre in un rilecrescente. È stato citato di 20 mila Euro al commercialista che ha fatto l'analisi dello studio sulle società. Sono una cifre importante. Mi sembra ridicolo rispetto ai 607 mila Euro che risparmiamo di compensi. Noi siamo entrati nelle stanze dell'amministrazione, abbiamo trovato due foglie a quattro, zeppi di nomi di persone che andavano a ottenere compensi per le partecipate, a più vario titolo e con persone in cui non si ripeteva anche due o tre volte. Quindi 607 mila Euro. È importante che anche stamattina nei giornali, vedo che si fanno le interpretazioni, ho visto non solo riportare i fatti non commentando ma in maniera corretta da un attestato online, mentre sul cartaceo vedo che si imputa a questa amministrazione una valutazione di Luca Holding per motivi tutti da definire. 607 mila Euro che vanno le tasche di cittadini. Mi ci tengo a ribadirlo. A fronte anche di quei famosi 35 mila Euro che l'anno scorso fecero un'utilità per fare un ameno libretto in stile berlusconiano. Luca Holding perché? 35 mila Euro. Non entro nel merito di quanto si accongua la spesa, anche se potrei farlo per difetto professionale. Noi abbiamo fatto una scelta diversa. Abbiamo detto qual è il luogo deputato? Il Consiglio Comunale. Veniamo qui, parliamo alla città, invitiamo chi può essere interessato, c'è lo streaming in televisione, ci sarà qualcuno che fa un report per i giornali. Riportiamo Luca Holding, il bilaccio di Luca Holding in Consiglio Comunale. Ci sembra la scelta che ci contraddistingue. È un'ulteriore dimostrazione che noi vogliamo che i lucchesi sappiano le cose del Comune, che non debbano pensare che ci sono le segrete stanze dove si decide, dove si danno incarichi, dove qualcuno prende soldi solo perché è amico degli amici. Portiamolo in Consiglio Comunale. Allora, fatta questa premessa, io mi sono chiesto già ai tempi del programma, perché per noi il programma rimane la barra, il programma elettorale rimane quello a cui facciamo riferimento. E avrei piacere che qualcuno leggesse, qualcuno che ha fatto anche affermazioni settimana scorsa sulle dichiarazioni sulla Holding fatte da Alessandro Tambellini. C'è un programma che parla, depositato. Noi con quello facciamo riferimento. Il senso della Holding è una seconda deliberazione della Corte dei Conti del 13-2008, a parte il fatto che loro dicevano che è una forma particolarmente adatta a enti di grandi dimensioni, quindi Luca non mi sembra, con tutto l'amore, però è un mezzo per attuare un'azione amministrativa coordinata ed unitaria e per organizzare la partecipazione degli enti locali in modo efficiente, efficace ed economico. Quello mi sembra importante. Quindi noi col programma andiamo anche a intercettare il senso di questa deliberazione della Corte dei Conti. Allora, noi abbiamo con questa azione fatto pulizia. Aspettavamo questo momento perché ci sembra giusto. Abbiamo riportato il valore del capitale il più possibile vicino alla realtà. Potremmo entrare nel merito, subalte dalle recuperi, potremmo andare a fare polemica. Non ci interessa, noi vogliamo essere operativi, mostrare i muscoli quando serve. Però abbiamo fatto una scelta che ci portasse ad avere una stima prudenziale di collocazione sul mercato con stime giurate di professionisti che ci hanno fornito questi dati. E anche questa è l'area nuova che vogliamo portare in questo Consiglio. Leggendo anche le riduzioni dei vari CDA, mi ha colpito, non so se nei colleghi è successo, di vedere che in alcuni CDA la riduzione dei membri è stata ostacolata, dove poteva, dal socio privato. Noi siamo la casta, siamo quelli che siamo alla grippia, rubiamo, guadagniamo cifre industriali, prendiamo il soldo di cifre, proponiamo noi la politica al privato di diminuire il numero dei membri e ce l'ha tassativamente bocciata. Dove poteva ce l'ha bocciata. Anche questo che adesso passa a riflettere. Su qual è la realtà dei fatti, la realtà anche della storia, qual è la politica, quella con la P in maiuscola, e qual è il potere. E questo secondo me ci deve far riflettere anche in futuro. Io credo che, e voglio chiudere, sono d'accordo con il Consigliere Angelini quando dice che dobbiamo riportare il Consiglio ad essere protagonista. Per me è fondamentale, credo che il passaggio del Consiglio sia sempre e comunque ben accetto e distintivo. In quest'Aula non c'è preintendimenti, non c'è possibilità di falsità, se non smascherandole in tempi più o meno lunghi. Quindi sono contento che si sia inaugurata questa prassi di portare il bilancio lucavo di Consiglio comunale. Io mi sento investito dai voti di chi mi ha mandato il Consiglio comunale ad approfondire queste pratiche difficili, perché sono difficili, non metto in dubbio come il bilancio, sono pratiche molto difficili. Però se noi facciamo un sacrificio che va ad alleviare una situazione anche di difficoltà dei cittadini in questi momenti, perché 607 mila Euro, mi piace, mi la bocca di questa cifra, vanno in meno sulle bollette, questa è l'attenzione ai nostri amministrati e questa è la vera attenzione. Non tanti discorsi, noi siamo molto più concreti, non lo faremo mai giornalino. Noi lo daremo in Consiglio, ci confronteremo con le minoranze, in un confronto dialettico che è sicuramente utile e fa crescere tutte le componenti, però sempre in Consiglio comunale. Per me questo è un grandissimo bel segnale. Grazie. Grazie, Consigliere Battistini. La parola al Consigliere Leone. Sì, Presidente, grazie. Veramente poche cose. Innanzitutto mi scuso, perché come avrete visto sono arrivato colpevolmente tardi, ma non perché l'argomento non sia importante, ovviamente per ragioni che non dipendono dalla mia volontà. E mi scuso anche perché non ho sentito, se non gli ultimi interventi e non ho sentito le relazioni introduttive, in particolar modo quella del Dottor Bortoli. Veramente poche cose, anche se dico una cosa in premessa, che la questione che discutiamo e sulla quale il Consiglio si pronuncerà tra poco, almeno una delle due, è particolarmente tecnica, non è così semplice o facilmente intuitiva. Quindi capisco anche un po' le difficoltà di tutti, specie di che, mi ci metto anch'io, che ho avuto francamente tempo di poter approfondire, lo dico magari ovviamente riconoscendo le mie colpe, le mie responsabilità, ma ci sono magari delle fasi in cui si è oberati e ipercaricati di cose che magari non ci si fa. Però dovremmo, come Consiglio, abituarci sempre di più a confrontarci su queste tematiche importanti. Non ci dimentichiamo che dal prossimo anno, il Segretario mi correggerà se sbaglio, in relazione alle disposizioni del DL 174 e le novità al testo unico, quindi gli adempimenti rispetto alle società partecipate, il controllo analogo, il bilancio consolidato, saranno via via maggiori e rilevanti e coinvolgeranno sempre di più il Consiglio. Quindi dovremmo dedicarci, probabilmente anche attraverso un lavoro preparatorio, fatto meglio all'interno delle commissioni, coinvolgendo in qualche caso non solo anche la commissione partecipazione, ma anche magari laddove ci sono riflessi economici, anche la commissione finanze. Quindi dovremmo abituarci a confrontarci molto di più su questi aspetti. Ripeto, questo di oggi è un aspetto importante, ma comunque sia molto tecnico. Al di là delle considerazioni che mi pare, almeno negli ultimi interventi, siano state fatte e che mettono in risalto l'aspetto dei risparmi dal punto di vista gestionale, riconosco che questo è un obiettivo importante ed è giusto, anche se è giusto anche allo stesso tempo in qualche modo riconoscere il tempo che i professionisti dedicano a occuparsi della cosa pubblica. Quindi dico, giusto andare verso una certa direzione, attenzione a non arrivare ad eccessi che in qualche modo, ma lo dico pur condividendo le scelte, quindi lo dico in generale come considerazione di principio. Però al di là di questi aspetti, che quindi riconosco nella sua bontà e nella sua positività, quello che manca ad oggi e che vorrei, a meno che sia stato toccato, non lo so, an passant, però manca certamente negli atti deliberativi, anche se poi in realtà su questo dovremmo anche forse con le relazioni provisionali e programmatiche abituarci a dare indirizzi maggiori e più specifici. Quello che manca un po' secondo me è una visione un po' più articolata e un po' più d'insieme. Vorrei capire dove su tutta una serie di questioni vogliamo andare dal punto di vista della gestione societaria, delle scelte di governance, delle scelte del gruppo dell'amministrazione pubblica del Comune di Lucca. Anche perché mi sembra, al di là di novità risparmi, d'accordo, però in termini così di scelte gestionali e di obiettivi trovo una consistente continuità, è anche giusto, però credo che sarebbe il caso di forse fare delle riflessioni e anche forse ragionare in realtà, se non è il caso, dopo diversi anni di esperienza, un'esperienza che comunque è quella della holding, io ritengo positiva, però ritengo che non sia il caso di ragionare se passare ad una fase diversa, ad una holding anche diversa. Si dice anche del modello holding, un modello holding puro, rispetto invece a un tipo di modello di una holding differente, che in alcune altre realtà diverse da noi c'è, è una holding più operativa. Ecco, mi domando, siccome anche in passato di questi aspetti si è discusso qui e anche altrove, forse anche all'interno della holding, senza mai arrivare a delle deliberazioni concrete, dai passi in avanti, al di là di quelli che sono gli adempimenti di controllo, credo che sia il caso fare una riflessione che ci spinga a considerare eventualmente la praticabilità di un modello di una holding operativa. Mi domando se in termini di risparmio, in termini di funzionalità, di efficienza complessiva del gruppo, dell'amministrazione, non sarebbe il caso e ragionevole confrontarci su questi aspetti, cioè capire come in un'ottica di sistema si potrebbero raggiungere maggiori efficienze, maggiori risparmi anche dal punto di vista gestionale. Cito degli esempi, la questione delle paghe, del personale, tutta una serie di questioni che potrebbero essere gestite unitariamente da parte della holding per tutte le società, perché la holding potrebbe, al di là delle modifiche statutarie, ma la holding potrebbe adottare un modello diverso, potrebbe porsi come interlocutore privilegiato verso le società del gruppo e proporre modelli gestionali diversi. Fino ad oggi si siamo mossi in continuità. Dico che dopo anni di questa esperienza forse è il caso di ragionare anche rispetto a possibilità diverse, secondo me migliorative, chiaro, non semplici, però credo che sia giusto porci questo tipo di riflessioni e guardare in prospettiva, non limitarci a una continuità, perché se no si va francamente poco lontano. I tempi secondo me potrebbero essere maturi per una riflessione di questo tipo. Forse volevo dire un altro paio di cose, un'altra cosa. Sostanzialmente è questo il concetto, perché evidentemente pur con le novità dal punto di vista legislativo e normativo. Credo che se ci si limita a questa impostazione si rimane un po' a quel ruolo, sì di controllo, ma forse pur forzando pesantemente la descrizione, forse rimaniamo a un ruolo di una holding un po' troppo pastacarte, tra virgolette, tra quello che è successo. Lo dico anche avendo fatto questo tipo di esperienza, holding potrebbe fare molto di più e molto meglio. Nel merito della proposta io francamente non ho avuto sufficiente tempo per approfondirla, non dubito che le cose siano state fatte con dovizia di attenzione e di cura. Preferisco non pronunciarmi, però vorrei che su questi aspetti, al di là degli arrempimenti più tecnici come questo, di sostanza dal punto di vista del Codice civile, però tecnici, si arrivasse a ragionare in termini di prospettiva. Quello che ho detto è un aspetto, ce ne sono altri, ne dico solo un altro. Possibile che, e sono anni, almeno tre o quattro che si discute di questo, e lo dico in una continuità come mi è solito fare di tipo amministrativo, tra le amministrazioni, come è giusto che sia, oggettivamente, al di là delle parti politiche. Possibile che sono anni che si discute della Lucca Comics e del Museo del Fumetto. Si fanno delle scelte in questo senso. Io, e siccome di queste cose che sono secondo me, è clamorose, è un aspetto marginale, è un segnale, è un puntino che dico, un aspetto per quanto parziale, ma secondo me che dovrebbe farci ragionare in prospettiva. Possibile che quando uno, come è successo, va alla manifestazione del Lucca Comics, cittadino, turista che sia, va al Museo del Fumetto e trova scritto per entrare tre euro. Non esiste, è una cosa scandalosa, gravissima, secondo me, dal punto di vista proprio dell'attrattività. Ma questo è un aspetto marginale. Però vogliamo ragionare su una gestione complessiva in un'ottica societaria, anche della proposta del Museo del Fumetto, rispetto al quale, se no, forse si va poco lontano. Vogliamo due settori che, per quanto non è una mostra mercato, per quanto una finalità più culturale di alto respiro, ma vanno sostanzialmente, sono relative allo stessa, sostanzialmente alla stessa lunghezza d'onda. Vogliamo continuare a far sì che forse si, che viaggino su binari paralleli, che difficilmente si intercifino, o forse è il caso di confrontarci e trovare delle soluzioni gestionali migliori nell'interesse della collettività. Ecco, sono alcuni spunti che vorrei, nelle considerazioni più generali, che in qualche altra occasione, non oggi. Sarebbe opportuno fare, vorrei che questa amministrazione si impegnasse ad una riflessione più complessiva. Grazie. Grazie a lei. La parola del Consigliere Lenzi. Grazie, Presidente. Ma vorrei fare una brevissima considerazione sul senso dell'operazione che siamo chiamati a votare e nel far questo vorrei rispondere a quella che mi sembra che è l'accusa che ho sentito più ripetuta da alcuni consiglieri di minoranza e cioè l'affermazione che alcuni consiglieri hanno fatto secondo la quale questa operazione comporterebbe un impoverimento della società. Ora mi sembra che questa affermazione praticamente parte da un equivoco di fondo su quello che è il capitale sociale. Vorrei portare all'attenzione dei consiglieri che hanno fatto questa affermazione che il fatto che io abbia un capitale sociale che nominalmente venga dato a 100 e poi al suo interno vi siano dei beni che al momento sono svalutati, hanno un valore di 70 e il fatto che io riporti il valore a 70 non toglio aggiunge niente a quella che è la realtà. Quindi non c'è nessun impoverimento al di là di quello che loro hanno affermato perché quello che conta fondamentalmente è la sostanza. Ma posso concludere? L'altra cosa che mi sembra che sia suggita ai colleghi nel fare questa affermazione è quello che è praticamente il contenuto di un'operazione di riduzione del capitale che in primo luogo e come ho già detto prima tende a riportare alla realtà quello che è il valore patrimoniale di una società, il che mi sembra già che di per sé sia un elemento positivo e non negativo. Ma soprattutto mi sembra che non abbiano considerato quelli che sono gli effetti di un'operazione di riduzione del capitale e soprattutto l'elemento della copertura della perdita che nasce da una valutazione del capitale. Se avete letto con attenzione la delibera praticamente viene evidenziato che la perdita del capitale conseguente alla svalutazione di cui si parlava viene coperta con 3 milioni e 600 mila di riserve e con 29 mila euro e 921 euro di utili. Questo significa che con questa operazione si mantengono in società e si mantengono all'interno e quindi si valorizza la società per un importo di questo genere che se non fosse stata fatta l'operazione potrebbe essere stati tranquillamente distribuiti. Questo significa che l'operazione alla fin fine rafforza quello che è il patrimonio dell'ossessità e gli dà sostanze e non la debolisce affatto. Questo è il contenuto dell'operazione, il senso dell'operazione per cui parlare di imporverimento è veramente un fraintendimento di quello che è il contenuto dell'operazione. Grazie. Grazie. Mi vedo presentata la consiglia Lucchesi. Sì, grazie Presidente. Mi scuso ma nel mio intervento di prima non ho presentato i due emendamenti alla pratica che appunto volevo protocollare e quindi porterò al banco della Presidenza. Entrambi chiaramente sono sulla pratica 264-2013. Il primo per quanto riguarda una parola da inserire nelle premesse, ovvero leggo l'emendamento e poi magari spiego un attimo. Emendamento numero uno alla proposta di delibera 264-2013 nelle premesse al quarto capoverso ultima riga tra la parola perdite e la parola durevoli inserire le parole di valore. Questo è un emendamento tecnico potrei dire perché non si capiva chiaramente il significato della frase senza questo inserimento. Invece un altro emendamento, il numero due alla proposta di delibera sempre 264-2013 per quanto riguarda il deliberato, al punto uno del deliberato alla quarta riga tra la parola sede e la parola approvare inserire un inciso tra due virgole con le necessarie delibere. Quindi il nuovo deliberato verrebbe di fornire al socio unico di Luca Holding SPA per le apposite assemblee da convocarsi il seguente indirizzo. Partecipare all'assemblea per l'approvazione del bilancio di esercizio 2012 allegato alla presente sotto la lettera B ed in quella sede, qui inserisco l'inciso con le necessarie delibere, approvare la proposta di riduzione del capitale sociale e poi insomma tutto il resto. Anche questo per maggior chiarezza espositiva, essendo la prima una delibera di approvazione in sede ordinaria e la seconda una delibera in sede straordinaria. Grazie. Grazie a lei che lo porta al banco della Presidente, così lo facciamo distribuire. Prontato anche il Consiglio Bertolucci. Sì, grazie Presidente. Era solo perché prima ho detto che la pratica è passata attraverso la Commissione partecipata, però allegato, diciamo il parere allegato alla pratica della Commissione partecipata c'era stato un errore di trascrizione, insomma un mero errore e quindi avevo chiesto che fosse, che la votazione fosse riportata nella, effettivamente come era avvenuta e ho visto che è stato distribuito il nuovo, cioè la nuova approvazione con chi ha approvato e quindi non so se, lo dico alla segretaria, se devo dire anche chi c'è. No, no, non importa. Non importa, era favorevole prima, era favorevole adesso. Sì, favorevole, era favorevole, c'erano solo degli errori formali. Perfetto, bene, questo era l'ultimo intervento, do la parola al Dottor Bortoli o al Sindaco al Dottor Bortoli per rispondere eventualmente a quesiti posti e fare le considerazioni finali. Sì, grazie, lo faccio volentieri. Intanto ringrazio chi ha ricordato che dietro a questo bilancio c'è un importante lavoro di gruppo che ha coinvolto le società e che ha coinvolto anche gli uffici del Comune di Lucca, oltre agli assessori. Lo faccio perché normalmente quando si fanno le approvazioni del bilancio si arriva all'ultimo tuffo. Noi abbiamo l'Assemblea domani mattina e quindi questa presentazione al Consiglio Cunale ci ha impegnato ad arrivare una settimana prima. Noi abbiamo cercato di predisporre il tutto per una settimana fa, il che non è semplice quando si consolidano dei bilanci con 17 società e bisogna anche ragionarci sopra. Certamente mancano alcune cose, non si è parlato tanto di Gesam, delle farmacie. Devo dire però che abbiamo sottoposto al Consiglio Comunale il bilancio che il Sindaco domattina deve approvare. Non abbiamo sottoposto il bilancio consolidato e le relazioni al bilancio consolidato che contengono delle informazioni a corredo più ampie sulle società, sul problema dell'ato costa, sul problema della gara, del gas. Non sono in questi documenti che voi avete avuto perché il Sindaco non le deve approvare, ne deve prendere atto. Io le ho predisposte domattina, lui le avrà e da domattina tutti i consiglieri ovviamente le possono ottenere. Alcune osservazioni che sono arrivate, in particolare le ho colte dai consiglieri Mascera e Angelini, mi fanno dedurre che non si è pienamente colta la situazione in cui mi sono trovato ad operare e che provo a ricostruire. Allora, io sono stato, ho partecipato alle assemblee di sistema ambiente di Polis di Lucca Fiere Congressi. Sono stato in queste assemblee e ho sentito constatare dagli amministratori di queste assemblee che le risorse investite in questa società avevano un valore. All'assemblea di Lucca Fiere e Congressi ho sentito dire dall'amministratore che le risorse investite in quella società hanno un valore di 4 milioni e 300 mila euro. Ho sentito dire poi lo stesso in Polis ed ho approvato questi bilanci perché ho creduto nelle constatazioni degli amministratori, nelle loro attestazioni, nelle loro valutazioni, e ho approvato i bilanci. Anche perché avevo prestantemente fatto, e quelli presenti mi potrebbero dare atto, delle raccomandazioni di essere abbastanza attenti nelle valutazioni. Ma qui siamo in un gruppo, siamo in un gruppo ai sensi del 2497 del Codice Civile. Io penso che i consiglieri comunali ne siano ai dotti. E quindi la stessa persona che va a votare nelle assemblee, poi deve fare il suo bilancio. Quando io mi sono messo a fare il mio bilancio, ho trovato il bilancio dell'anno prima in cui si diceva che la stessa società, Lucca Fiere e Congressi, non aveva 4 milioni e 3, ma 13 milioni di euro di valore. Allora l'amministratore purtroppo, 2426, quarto comma, ha un obbligo di legge. Ha un obbligo di legge. Deve raccordare questi due valori, che sono tra loro distanti, 13 milioni, 4 milioni e 3. L'amministratore o si dimette o li deve raccordare. Ha due modi per raccordarli. O fa una valutazione, o precisa in nota integrativa quali sono le ragioni che giustificano questo iato. Io ho soltanto queste possibilità, non ne ho altre. Se voi le avete, me le insegnate e io da qui in avanti le uso, ma se non me le insegnate non ne ho altre. Io so che c'è uno iato tra 13 milioni e 4 milioni e 3 che io devo giustificare. Lo devo giustificare in bilancio. Ho due modi, faccio una valutazione oppure preciso con della documentazione che questo iato è giustificato. Io il 25 maggio ho chiesto al perito che mi stimasse di nuovo il valore del patrimonio immobiliare di Sorbano. Non l'ho chiesto a mio cugino o al mio compagno di merende, l'ho chiesto allo stesso perito che l'aveva stimato cinque anni fa. E la perizia l'ho fatta giurare ed è ovviamente a vostra disposizione. È una perizia giurata dello stesso perito. Arrivati a questo punto, io devo fare le mie conclusioni. La mia conclusione è stata, nel caso specifico, è stata un po' salomonica, tra 13 milioni e 4 milioni e 3 ho valutato che il patrimonio che il Comune di Lucca investe nella Lucca, Chiare e Congressi è di 8 milioni e 6. Me ne sono preso la responsabilità, l'ho scritto. Poi, se a voi non fa piacere sentir dire che non avete un patrimonio di 13 milioni ma soltanto di 8 milioni e 6, io capisco che vi sto contraddicendo, che vi sto contrariando, ma capite che non potevo fare diversamente. Perché quando si usano gli strumenti societari, si usano in maniera appropriata. Se si vuole piantare un chiodo nel muro, non si prende un cacciavite, si prende un martello. E quindi, quando si usano gli strumenti societari, si usano secondo le regole codicistiche. Tra l'altro, nello spending review c'è una norma, un coma dell'articolo 4, che dice che quando le norme del Codice civile, diritto societario, non quadrano con le norme del diritto amministrativo, perché ormai anche il Governo si è accorto che siamo in una torre di pabelle, prevalgono quelle del diritto societario. Quindi, signori, non si può giocare con queste cose qui. Vado avanti, no? Perché ho fatto soltanto una svalutazione e non sono passato al criterio del patrimonio netto, perché è possibile che ci sia un ripristino di valore. L'operazione che ho fatto, signori, non è senza ritorno. Se i vostri beni valgono quello che pensate, quello che immaginate, quello che vorreste raccontare alle banche, benissimo, che emergano queste plusvalenze, questi plusvalori, che l'anno prossimo siamo liberi di ritornare su. Per carità, non voglio giocare con i valori, con la scingomma. Però, attenzione, questa operazione che ho fatto è transitoria. Se l'anno prossimo fosse verificato che certi valori sono così mortificanti, dovremmo prima o poi metterli in bilancio in maniera definitiva. D'altra parte c'era un famoso economista americano, mi sembra che sia Caldor, che diceva che se uno compra un paio di scarpe e pensa che le durino quattro mesi, dopo un mese segna sulla scheda che ha ancora sei dollari di attivo, dopo due mesi segna che ha quattro dollari di attivo. Se poi però quelle scarpe non le può portare perché gli fanno male ai piedi, non può continuare in eterno a dire che ha quattro dollari di attivo nella sua scarpiera. Un anno, due anni, cinque anni, poi dopo dieci anni dovrà dire che i quattro dollari in attivo non ce l'ho più. Per quanto riguarda invece la questione della holding pura, signori, anche qui stiamo attenti, stiamo scherzando col fuoco. La Corte dei Conti, in maniera ormai consolidata quasi tutte le settimane, parla delle holding. L'ultima è del 9 maggio, Corte dei Conti, Settione di Controllo Campania. Tra il Bersani, 223 del 2006 e la Spending Review, 95 del 2012, non c'è più spazio per le holding, se non dice che le uniche holding tollerate sono le holding degli enti locali, qualora queste si limitino a gestire le partecipazioni dell'ente finanziandosi esclusivamente con i dividendi. Se si fanno delle consulenze su gare e contratti alle partecipate e ci si fa pagare per le consulenze che si fanno internamente alle partecipate, 10.000 euro, 20.000 euro a consulenza, si va a occupare lo spazio di commercialisti, di avvocati, di giovani professionisti che potrebbero fare quelle consulenze ed è vietato dalla legge. Poi, se si vuole che la holding faccia le buste paga per i dipendenti del gruppo, faccia il riferimento di finanziamenti, gestisca contratti di lavoro, per carità, la holding è vostra. Sappiate che entro il 31 dicembre avreste l'obbligo di disfarvene se non fosse pura. Per fortuna, secondo me, vi dico io, è pura, ma se vi piace che non sia pura e la volete fare operativa, fate pure. Certamente vi devo ricordare che io non porterei avanti un progetto di trasformazione di holding pura da holding operativa, anche perché ne risponderei personalmente, perché lo spending review, articolo 4, dice che rispondono personalmente non più solo gli amministratori dei consigli comunali, ma anche quelli delle società che si adoperano per attuare indirizzi illegittimi. Per quanto riguarda il punto che il consigliere Monticelli, mi verrebbe quasi detto il collega Monticelli, perché abbiamo dei trascorsi insieme in aziende private, il punto che il consigliere Monticelli sottopone è un punto centrale. Se fosse stata una società privata, si sarebbe fatta questa svalutazione. Questo punto mi sembra che fosse presente anche nell'intervento del consigliere Macera. Si sta scherzando perché tanto siamo nel pubblico e quindi c'è chi l'antende, chi l'intonda, destra, sinistra. Se fossimo stati nel privato lo si sarebbe fatto? Allora, siccome io vengo dal privato e ho anche esperienze di aziende che hanno sofferto, rispondo che probabilmente non lo si sarebbe fatto, nel senso che ci sarebbe stata quella silenziosa intesa che in questi momenti parte dagli amministratori, passa per i collegi sindacali, transita per i revisori, arriva l'azionista fino alle banche. E quindi ci sarebbe stata una silenziosa intesa di mantenere steso il velo pietoso nelle società private. Ma vi chiedo, le società pubbliche che ci stanno a fare? Ecco, io mi chiedo se una società pubblica che si propone di rispettare la legalità, che ha un capitale sociale di 48 milioni di Euro, con un indebitamento di 12 milioni e mezzo, cioè il rapporto 4 a 1, che ha un anno fortunato perché ha un utile operativo di 2 milioni e mezzo, e voi sapete che certe svalutazioni si fanno solo negli anni in cui ci si possono permettere, vanno colte con tempestività a queste occasioni, se non lo fa una società pubblica, chi lo deve fare? Ma come deve ripartire questa economia? Dice il Consigliere Angelini, giustamente, tu ti sei preoccupato del mondo, però ognuno deve portare, credo, il suo piccolo contributo per far ripartire questo mondo e questa economia e trovare un posto di lavoro in più. Il posto di lavoro potrebbe capitare se qualcuno dice, beh, qual è Stavacchettoni? Che ne facciamo? Se partiamo da un valore di un milione e mezzo di Euro, un po' d'alti che troviamo anche da spenderci ne sopra altri due, tre e mezzo, viene fuori qualcosa che forse ritorna all'investimento in otto, dieci anni, vent'anni. Se partiamo da un valore di tre milioni di Euro, probabilmente la palestra Bacchettoni fra dieci anni sarà sempre lì. Non è così certo che si crei un posto di lavoro, per carità, tocca a voi dirlo. A me tocca dirvi quanto oggi può essere un valore fair, un valore, diciamo, corrispondente alle valutazioni che i mercati scambiano di questi beni. Perizie. Chi di perizia ferisce? Di perizia? Perisci. Scusate, io ho avuto l'obbligo di riprendere in mano le stesse perizie che nel bilancio del 31-12-2011 dicevano che supportavano certe valutazioni. Ho preso quelle. Io ero obbligato, me l'ha chiesto il sindaco in assemblea il 26 luglio, mi ha detto benissimo, io prendo l'atto che i valori sono questi, bortoli la prima cosa che fai, apri i cassetti, prendi le perizie in mano. Dico, chi di perizia ferisce? Di perizia perizia, nel senso che io non posso poi col solito criterio. Io ho posto dei quesiti con determina, non li ho posti a voce, li ho posti con determina. Entrambe le perizie hanno dietro una mia determina di richiesta. Con determina ho posto i quesiti. Quindi sono noti i quesiti, non solo le perizie. Ho chiesto agli stessi periti con quesiti noti, scritti in una mia determina, che stimassero i valori con due criteri distinti. Un criterio molto, molto generale, che corrisponde ai criteri di stima, dell'estimo, secondo i libri di scuola, e un criterio se il Comune, in tempi non particolarmente affrettati, però avesse il desiderio di vendere certi beni a un investitore. Ho fatto questi due requisiti. Mi sono arrivate le risposte, i valori ve li ho detti, nel caso del Polo Fiere. Il valore del Polo Fiere è 9 milioni e 6, se tutto va bene, ma se il Comune vuole vendere, per vendere a 7,5 bisogna vendere non di più. Mi sembra che ho messo un valore di 8 milioni e 6 nel mio bilancio. Quindi mi sembra di essere stato assai ragionevole. Poi tutto questo avete capito perché si è fatto, perché se non l'avete capito allora si spiegano certi interventi in cui si dice che era meglio non svalutare. Se il Comune avesse deciso di non svalutare, era liberissimo di farlo. Poteva portare queste perdite a nuovo e quindi i dividendi dei prossimi anni fino a 3 milioni e 400 milioni euro sarebbero stati catturati dalle perdite per cresse. Quindi per sfuggire alla cattura i dividendi prendono un'altra strada. La prendono perché? Perché avendo svalutato il capitale non occorre catturare i dividendi futuri. Se il Consiglio preferisce invece che il capitale resti così com'è e preferisce che le perdite vengono coperte da qui in avanti con i dividendi futuri, il Comune di Lucca sta due o tre anni senza percepire i dividendi e siamo pari. Io penso di aver fatto una proposta che si facesse carico anche di una situazione di bilancio dell'ente di cui ogni tanto qualcuno mi viene a parlare. Ma evidentemente, insomma, poi sono scelte vostre perché potete voi votare che preferite riportare a nuovo le perdite anziché abbattere il capitale sociale. Bene, grazie. Dottor Bortoli, la parola al Sindaco. Mi complimento con l'amministratore di Holding perché ha dato, credo, risposte molto esaurienti ai quesiti che sono stati posti all'interno dell'Aula. E mi sembra che le risposte, così come sono state illustrate, ammettano poca replica, perché sono dal mio punto di vista molto convincenti contro qualunque tipo di replica, comunque essa voglia essere costruita oppure di battuta. Mi permetto di aggiungere alcune considerazioni. Se non vado errato, il sistema ambiente ha una quantità impressionante di insoluti. Sugli insoluti sono stati a suo tempo anche iscritti dei mutui chilografari, perché per far fronte appunto alla quantità di mancati pagamenti della TIA, a suo tempo si chiamava TIA. Bisogna capire quanto di quegli insoluti può realisticamente entrare e quanto non può realisticamente entrare, perché anche da questo punto di vista io credo che bisognerà poi fare chiarezza. Se ne parlava già molto prima della nostra presenza all'interno di quest'Aula in posizioni amministrativamente rilevanti. Voglio ricordare quando in precedenza si giustificava qualunque investimento sul polo fieristico col fatto che qualsiasi investimento era in ogni caso garantito da un valore di quell'edificio stimabile, stimabile fino a 18 milioni. E io chiedo se ancora oggi è realistica una previsione di quel genere. Sul polo fieristico si è fatto di tutto in quel senso. Si è anche ipotizzato un avviamento, chiedo di essere smentito se sbaglio, di circa 700 mila euro portato dal direttore, perché si è anche immaginato questo come ipotesi, quello che poi in realtà ha avuto l'evoluzione che tutti sappiamo in termini di bilancio. Per quanto riguarda poi ancora il polo fiere, io chiedo a questo consiglio, quando è stata immaginata la liquidazione del socio valore con 2 milioni e 2, ebbene la liquidazione del socio valore con 2 milioni e 2, 2 milioni e 230 mila se vado a mente, ma penso di non sbagliare, è stata effettuata sulla base della stima del capitale sociale di quel momento. Lo stesso per Polis, guarda caso, ci troviamo all'interno di contesti che hanno visto delle liquidazioni i soci, ma anche in Polis è stato liquidato il socio privato, sulla base di una stima precisa, perché al socio privato è stata corrisposta una cifra in base alla stima del capitale che è stata effettuata. Allora, possiamo continuare per molto tempo ancora, se vogliamo poi andare ad analizzare in modo preciso, molto preciso, molto puntuale, alcuni avvenimenti che riguardano le partecipate del passato. A me qui non mi interessa continuare in modo polemico, si tratta semplicemente di riportare la situazione a un punto che sia di affidabilità. Quindi il mio intervento vuole essere polemico solo in parte, perché mi preme ricordare comunque alcuni fatti importanti che qui qualcuno ritiene oggi dover dimenticare, ritiene di non dover ricordare. Perché pensa che tutto questo appartenga ormai a un passato che non è più suo. No, le situazioni ci sono state, sono state molto evidenti. E vi ricordate come si continuava a investire, a immettere liquidità all'interno della situazione Polo Fiere per una partenza che poi di volta in volta veniva rimandata sulla base di situazioni di bilancio che tutti gli anni erano complicate. E ci sarebbe poi da parlare anche di altri aspetti che taccio, perché è l'ora di farla finita su queste cose. Vi permetto un'ultima osservazione, perché ora è l'ora di uscire anche da certi elementi di sudditanza. Chi è stato esponente di spicco politico di questa città? Tanto da avere della città in mano le leve fondamentali, deve anche ricordarsi come erano le società municipalizzate nei tempi in cui quella classe politica è governata. Perché quando io sono entrato dentro Amit, erano anni che non si approvavano i bilanci, che sistematicamente venivano messi in un cassetto. Ma di cosa ragioniamo? Ma di cosa stiamo a ragionare? I bilanci sistematicamente li abbiamo riapprovati tutti, semplicemente perché il Comune non li approvava. Ma di cosa parliamo? E vogliamo dire come erano congegnate quelle società? E vogliamo dire quello che abbiamo trovato in bilancio come residuo in quelle società? Allora, vogliamo continuare a parlare di quel periodo? Io sono tranquillamente pronto a riparlare di quel periodo, anche perché è l'ora di farla finita con caratteri, ripeto, di sudditanza e di incompetenza di chi sta tentando ora di riportare la situazione alla normalità. Poi sicuramente potremo commettere degli errori, sicuramente, perché nessuno ha la vista tanto lunga da non commettere errori. Ma per certo chi sta cercando ora di riportare la situazione nel solco lo fa con una giusta determinazione e secondo un buon intendimento. si sta a discorrere di club. Ma di cosa parliamo? Di una società che quando siamo entrati l'anno scorso non aveva i quattrini per pagare la quattordicesima a luglio? O non aveva i denari per pagare il gasolio successivamente? Ma di cosa stiamo ragionando? Vogliamo parlare del club versione 94? Ma sono ancora elementi di cronaca questi. Allora, facciamola una buona volta finita di stare a discorrere di certe questioni e di stare a proporre determinate inadeguatezze. Noi ce la mettiamo tutta per portare le cose là dove vogliamo che arrivino, secondo dei buoni criteri. E guardate, chi si permette di dare tante lezioni oggi sappia che in questo momento abbiamo fatto fuori anche il concetto di giovinezza come proiezione verso il futuro. Perché abbiamo fatto della gioventù qualcosa che è residuale, dei residui di una generazione del passato, di due generazioni del passato, che hanno poi portato le cose a questo punto, a queste dimensioni. Allora, noi siamo ben intenzionati a metterci tutti noi stessi per poter traghettare verso situazioni migliori. E lo facciamo con grande spito di servizio. Ma sono inaccettabili lezioni comportamentali rispetto a questioni che sono per certi aspetti impresentabili. Sono stati impresentabili. E per certi conti, ancora oggi, viste con la luce di poi, devo dire che gridano vendetta. Allora, cerchiamo di rinnovare la classe politica, cerchiamo di rinnovare la classe dirigente, cerchiamo di rinnovare la classe amministrativa e cerchiamo di condurre, secondo delle pratiche, che siano di ottimo comportamento, secondo la legge, secondo lo spito della legge, secondo il buon intendimento che corrisponde al criterio del maggior giovamento sociale. Cerchiamo di andare in quella direzione. Certo, la gara Gesome, sono in grado di annunciare le caratteristiche di quella gara, almeno dal nostro punto di vista. Gesome è un bene della società lucchese. Cerchiamo di salvaguardarlo. Vuole che si parli delle azioni salte. Certo, salte ha reso un milione e cento mila euro. Le azioni salte rendevano molto di più in precedenza, perché rendevano circa un milione e mezzo. Ora rendono un milione e cento mila euro. Ecco la salte. Non la vendiamo per ora. Cerchiamo di non vendere elementi di patrimonio importanti. Farmacie. Delle farmacie è stato venduto il 75%. rimane un residuo del 25% di farmacie. Rendiamoci conto che nella vendita delle farmacie, in bilancio viene portato l'ammortamento da parte di chi ha comprato, l'ammortamento del peso d'acquisto. Ecco perché non rendono farmacie. E questo è un discorso vecchio. Ma le farmacie non rendono semplicemente perché nel frattempo si è andati verso una condizione diversa della concezione della farmacia. La farmacia si accoppia ai servizi medici, a una gamma di servizi medici, cosa che non è successa per le farmacie comunali. Quindi c'è anche questa dimensione da considerare. Potremmo continuare così. Siamo in grado di parlare di ogni situazione. Dobbiamo mettere a posto la condizione di metro, perché metro non può operare secondo i caratteri in cui sto operando. Quindi di qui alla fine anno abbiamo necessità di mettere al posto, al sicuro, alcune condizioni. Sulle società si farà questo, perché esaurita questa fase di ricognizione sul panorama che ci è stato affidato. Ebbene, compiremo poi le azioni che ritraremo opportune per poter migliorare l'intero sistema. Questo è il compito che abbiamo davanti, il compito che dobbiamo fare. E per fortuna che abbiamo dei collaboratori in quel settore, tutti quanti, chi opera nelle società. L'amministratore della holding. Abbiamo collaboratori di grande valore, che si impegnano moltissimo, con grande abnegazione, molto spesso per nulla, con compensi ridicoli e che hanno capito il senso di quello che sono stati chiamati a fare. Questo è il discorso di fondo. Per cui le società partecipate per la prima volta non sono diventate la seconda fila della politica, la retroguardia della politica, ma sono diventate il punto avanzato di un'azione che tenta di fare, dai vari settori, un piccolo cammino per il miglioramento del nostro sistema complessivo. La questione è clappe, ma la porteremo di sicuro a un Consiglio Comunale, anche perché dovrà tornarci il Consiglio Comunale. Ma io le voglio ricordare, consigliere, voglio ricordarvi consiglieri, che c'è stata una legge regionale del 2010, ovvero la finanziaria della regione toscana del 2011, che dopo l'articolo 80 in poi esponeva le nuove linee in vita del trasporto pubblico locale. Quindi anche da quel punto di vista non ci siamo inventati alcunché. Abbiamo risposto a una legge regionale e le regioni fino a poco contrari ci sono. Poi ci può piacere, la regione toscana ci può non piacere. Alcuni indirizzi ci possono soddisfare, ci possono non soddisfare, però ci sono. Allora noi teniamo conto o le rifiutiamo. Per cui siamo andati nella direzione che le tenavamo più opportune in quel momento, senza peraltro nascondere alcunché, perché tutto è all'evidenza degli altri. Poi, se avremo commesso gli errori, li abbiamo commessi con molta buona fede, abbiamo chiesto pareri, ci siamo informati, abbiamo chiesto a chi aveva autorevolezza per poterci dare indicazioni. E personaggi del mondo privato del trasporto pubblico non li abbiamo portati noi dentro, Clap. Ce li abbiamo trovati. E la trasformazione di Clap in una serie di scatole cinesi, come si usa dire, quasi infinita, è la direzione di Clap a Pistoia, invece che a Lucca. Non l'abbiamo mica imposta noi, l'abbiamo trovata. Allora, o facciamo a dirci le cose come stanno e si ha un rispetto della verità in termini complessivi. O, altrimenti, la verità poi c'è chi la mette sul tappeto. Perché io poi sono anche disposto a mettercela tutta, in una maniera più opportuna. Perché non sono affatto propenso ad accogliere ogni sorta di invettiva e anche spesso di insulto all'interno di questo Consiglio, in mezzo a risolini che possono essere di compatimento. Quindi, intendiamoci sulle questioni. Qui non siamo qui per scherzare sui vari aspetti della vita amministrativa. Siamo qui nel tentativo di fare qualcosa di buono e di lasciare qualcosa di buono alla città. Speriamo di farci, con l'aiuto di tutti e soprattutto con le pensioni di buona volontà, che sono tante, molte vedo qui presenti, che in questo sforzo ci stanno dando una mano. Bene, grazie, Sindaco. Se i consigli non hanno nient'altro da replicare, direi di passare alla fase di dichiarazione di voto. Vi ricordo che le votazioni saranno ben quattro, due emendamenti, la pratica e l'imitata sicurità. Consigliere Angelini, ho la predichiarazione di voto? Due minuti. Signor Sindaco Sammellini, io mi considero laico. Quando lei alza la voce così e fa queste prediche parla da prete e in questa cosa mi disturba un po'. Perché non c'è bisogno, in qualche modo, di fare appello alla passione. I fatti. I fatti per quanto riguarda i trasporti, per quanto riguarda l'acqua, per quanto riguarda tutta la politica regionale, sono che la Regione ha portato, certo, dal 2011 una politica centralista. Lei diceva, fate la Regione. Ma voi dove siete? Sull'ospedale e cosa? Siete stati sempre in coda alla Regione. Questo è il rilievo. E non avete detto niente. Non date alla Regione che potreste darlo quel contributo che è necessario. Ma non voglio fare polemica. Il polio fioristico, almeno su questo siamo stati d'accordo. Noi siamo stati sempre contro l'amministrazione di Favilla quando ha buttato nella fornace tanti milioni. Lo posso rimproverare, Sammellini, nell'ultima volta in cui c'è stato l'aumento di capitale sociale da tre milioni per tappare i buchi all'indomani della nomina da parte di Marufavilla al presidente di Marivina Marcucci. Noi soli abbiamo votato contro. Il PD, compreso lei, non partecipò alla votazione ma mantenne il numero legale. Quindi noi su questo punto non abbiamo niente da farci rimproverare. Il sistema ambiente si può dire, certo, le cose che ha detto sono ragionevoli, si può dire però che non si doveva distribuire gli utili in una situazione come quella e sanare le perdite pregresse. Questo soltanto abbiamo noi detto. Naturalmente prenderò il… mi ha molto interessato quello che ha detto, soprattutto sulla Luca Holding operativa o no. Certo che sono d'accordo anch'io che la Luca Holding deve andare avanti con gli utili delle società, se no che cosa facciamo? E naturalmente l'indebitamento che c'è ora dimostra che non è sempre stato fatto così. Però io penso che proprio sulla base degli utili, procurando un risparmio anche alle società, si potrebbe da parte della Luca Holding su certe questioni operative importanti di gestione, ecco, dall'ufficio legale agli interventi e cose, fare qualcosa di più di oggi. Semplicemente questo. Però le cose che mi ha detto, le citazioni che ha fatto di leggere, della spending review, me le andrò a rileggere perché mi voglio confrontare. Io sono uno di voi che sa tutto. Se lei mi dice le cose, vado a leggere, lo faccio. Però ecco, come sulle farmacie, eccetera, non è vero neanche questo. Le farmacie avevano 80 milioni, 800 mila, scusi, utili di reddito con il magazzino che sotto l'accelerata gestione di Malofavilla, è stato lasciato andare là per fare alla società, ai privati, le loro, diciamo, triangolazioni. Cosa voglio dire in conclusione, però? A me mi pare che le ultime cose che ha detto l'amministratore Bottoli sono importanti, perché chiariscono poi, scusa, Lenzi, anche a te, chiariscono le situazioni. Quando Lenzi ha detto cosa vogliamo tenere, queste elevate valutazioni, eccetera, se domani dobbiamo vendere la Bacchettoni, dove troviamo il compratore? Allora abbattiamo. Allora, io voglio dire che tutto questo che è stato fatto, che, come ha detto Monticelli, in una società privata, sarebbe stato rinviato, ha un senso se il comune, l'amministrazione, il sindaco, Bottoli, voi, vi apprestate a vendere qualcosa del patrimonio della società. Sarà vero, se non è vero, io credo che questo è funzionale al servizio. E allora, niente di male, basterebbe dirlo e discutere seriamente dei problemi finanziari che riguardano anche le cose. E non ci trovo, quindi, nessun'altra giustificazione a questi interventi di abbattimento del capitale, se non questo, che è legittimo, ma politicamente perlomeno è discutibile. Ultima cosa all'ordine. Gli do atto dell'impegno e do atto che avete risparmiato dei soldi. Bene, però, ecco, io vorrei dire, secondo me, no? Non si deve sempre destinare i soldi. Non è vero che sono spesi male i soldi che sono dati ad un amministratore che ci radica la vita. Naturalmente, sulla Lucca Holding, io ho la mia idea, penso che sarebbe meglio, perché c'è bisogno di competenze differenziate, al posto di un amministratore unico, tre amministratori, secondo lo spendere, vero, sia un po' di cosa, che in qualche modo su questi abbiano una gestione collegiale che sarebbe più opportuna, di conforto al Consiglio Comunale, e sicuramente di sequenza, anche ora c'è. Per queste ragioni, io ho spiegato, non voglio fare polemiche, alcune cose le ho registrate positivamente, eccetera, mi sembra che sia sbagliato fare, in qualche modo, il processo al passato. Naturalmente, una cosa solo a Tambellini. Io, su amite a tempo e genere, ho le carte in regola. Un giorno, se vorrà, glielo dirò, senza di me, la ristrutturazione del servizio nel 1983-84 con la meccanizzazione e con il Casalito, non sarebbe stata fatta, né sarebbe stata fatta il rilancio della Gedeba. Sono d'accordo, però, con lei che dopo sono venuti anni difficili, veniamo di superarli, però anche voi non potete sentirvi aggrediti ogni volta in cui uno legittimamente fa una critica e dà un contributo, questo cercando di fare io in questo Consiglio. Grazie. Grazie, lei. Consigliere Leone, scusi. Grazie. Brevemente, rispetto al voto, ho già detto, ma alcune considerazioni rispetto a quello che ha detto l'amministratore, il dottor Bortoli. Ora, io chiaramente mi riservo, come diceva anche Angelini, di riapprofondire la normativa, ma forse non ci siamo troppo intesi, nel senso che non è che io intendevo la holding come una società che avesse una finalità commerciale verso l'esterno. Io mi rivolgevo più che altro all'interno delle società del gruppo. Poi può anche darsi che ci siano delle disposizioni che forse contrastano, le approfondirò. Mi sembra un po' strano, francamente, perché laddove e mi sembra che lo spirito del legislatore, almeno in questo settore, vada in una direzione chiara ed inequivocabile, cioè razionalizzazione, ottimizzazione, efficienza di gestione e risparmi. Cioè, allora, quello che intendevo in termini di, poi si può disquisire sul nomen, però, in realtà, quello che intendevo in termini di vantaggi gestionali andavano nella direzione di un'ottica di risparmio. Quindi, in realtà, mi sembrerebbe, poi ci saranno forse i pronunciamenti della Corte dei Conti, lo verificherò, ma mi sembra che semmai contrastano queste disposizioni forse con la volontà del legislatore in termini più generali, perché laddove invece bisognerebbe andare verso un'ottimizzazione, invece si va in una direzione opposta. Insomma, forse sono norme confliggenti che meriterebbe approfondire e nel caso forse meriterebbe anche dire al legislatore forse è il caso che tu ci pensi, perché non ha tanto senso, no? Ecco, questo aspetto. Poi, rispetto alle considerazioni più generali del gruppo, dell'amministrazione, ripeto, mi auguro che se ne possa discutere anche sulla base di un po' di documenti programmatici con un po' più d'attenzione. Ora, al di là di questo passaggio legato alla scadenza del bilancio della holding, però sarebbe il caso che sulla tematica, anche in previsione di quello che dicevo prima e del prossimo anno, si discutisse meglio sugli obiettivi, non con considerazioni un po' così flash o interventi anche del sindaco, giustamente, ma sempre un po' random, un po' sempre flash. Ecco, sarebbe il caso che si facesse una discussione più articolata, perché, ad esempio, sulle farmacie che sono state toccate, forse è il caso di fare una riflessione anche qui. L'accenno. Il Comune, tramite la holding, detiene il 25% di questa società. Al di là dei risultati di bilancio, sui quali meglio non dire, nel senso che non è che hanno portato utile all'amministrazione, zero. Lasciamo perdere le motivazioni. Però, quando è nata, io mi ricordo questa operazione della privatizzazione consistente delle farmacie per il 75%, tra l'altro ci furono levate di scudi, si rinuncia, tra l'altro era una società che portava alla fine anche utile e interessante all'amministrazione. Quindi, poi alla fine, se si guarda ad oggi, al di là dell'operazione di redditività, al momento della scezione del 75%, se si guarda in una prospettiva di più lungo periodo, forse non so se l'operazione è valsa la pena. Però mi domando ad oggi quanto valga la pena, proprio tenendo conto che il servizio delle farmacie comunali ormai è un servizio forse pubblico o ha una ricaduta rispetto ai cittadini, non so quanto, rispetto a quello degli anni 80% forse. Quindi, partendo da queste considerazioni e questi presupposti, che senso ha forse mantenere ad oggi una partecipazione del 25%? Sarebbe il caso di parlare, di ragionare e di mettere sul mercato questo 25% e meno renderlo redditivo. Cioè, toglierci da questa società una volta per tutti sarebbe un'operazione. Non so quanto porterebbe nelle casse della holding, però potrebbe avere un senso. Tenere questo 25%, praticamente senza alcun beneficio, sinceramente non ne colgo gli aspetti positivi. Ecco, queste sono le considerazioni che vorrei si facessero in un dibattito più a 360 gradi e più articolato. Grazie, consigliere. La parola al consigliere Lenzi. Grazie, Presidente. Dunque, volevo fare alcune precisazioni anche in relazione all'intervento del consigliere Angelini. Allora, innanzitutto devo dire che non condivido il suo punto di vista, cioè che una svalutazione del patrimonio abbia un senso se in quanto funzionale a una futura vendita del patrimonio. Mi sembra che tu abbia detto che ha un senso svalutare del patrimonio se poi c'è l'idea di venderlo. Personalmente ritengo che non è... Comunque, allora, personalmente non credo che sia questa la giusta prospettazione dell'operazione che viene fatta. E ora tornerò su questo e voglio un attimino precisare anche quello che ho detto in precedenza. Prima di tutto questo però vorrei un attimino dare, fare una piccola rettifica a quella che è la risposta che ha dato Bortoli alla risposta di Monticelli e cioè alla domanda cosa sarebbe avvenuto in una società privata. Credo che la risposta, non è che la risposta di Bortoli non era, diciamo, non aveva un senso, ma credo che la risposta più pertinente e più esatta sarebbe invece un'altra. E cioè che un buon amministratore, un amministratore rispettoso della legge avrebbe dovuto farla. Questo è il senso e la risposta vera che doveva essere fatta. Tornando poi al discorso della svalutazione che è stata operata da Bortoli, dunque, e al concetto di impoverimento che alcuni di noi hanno collegato a questa operazione, vorrei tornare a far presente, in questo vorrei precisare l'intervento che ho fatto precedentemente che forse non è stato così preciso, che svalutare il patrimonio significa evidenziare delle perdite. Evidenziare delle perdite significa dover poi ricoprire le perdite e dover coprire le perdite significa poi dare solidità alla società. E su questo torno a ricordarvi che proprio a seguito dell'operazione di svalutazione fatta da Bortoli che alcuni di voi contestano e che intendono come uno sviluppo della società, in realtà questo ha fatto sì che le perdite devono essere coperte e ha fatto sì che rimarranno nelle casse sociali, ripeto, 3 milioni di sedi di riserve e 26.291 euro di utili. Quindi l'operazione di svalutazione è un'operazione che da un lato riporta alla realtà il patrimonio della società e dall'altro costringendo la copertura delle perdite rafforza la situazione patrimoniale della società. Evidentemente se una svalutazione non fosse fatto il bilancio sarebbe stato un bilancio inattivo e questo avrebbe evidentemente comportato la possibilità di risporre di utili, di riserve eccetera e quindi togliendo risorse alla società che invece con la svalutazione rimangono in società e ripeto la rafforzano. Questo è il senso della operazione del Bortoli e quindi quello che voglio fare presente a voi che la prospettiva in cui deve essere vista l'operazione deve essere vista una prospettiva puramente nominativa a una società che prima ha un numerino 100 e una società che ha un numerino 80 e quell'80 in sostanza corrisponde alla sostanza dell'operazione. Grazie a lei Lenti. Poi mettiamoci d'accordo anche per il futuro. Quando termina, lo dico per tutti e non dico per, in particolare per lei, lo dico per tutti, quando il sindaco fa la replica il consigliere ha il diritto a cinque minuti di replica. Io chiedo se qualcuno volesse controplicare, nessuno vuole replicare, siamo stati nella dichiarazione di voto che è un'altra cosa. Questo lo faccio per precisare, per ricordare a tutti i termini del regolamento. Poi mi sono attenuto ai tempi che ha impiegato il consigliere Angelini, che hanno debordato anche egli, nonostante avesse fatto la dichiarazione di voto a tutti gli effetti. Però cerchiamo di attenerci a quello che io devo applicare le regole. Consigliere Battistini. Sono ovviamente d'accordo sul rispetto delle regole, sempre e comunque, perché non valgono solamente sulle posture o su altri gesti. Quindi, bellicazione di voto. Ovviamente sarà un voto favorevole anche perché, se avevamo qualche dubbio con la Dio Democratico, le parole del sindaco ci hanno ancora di più convinto, anche perché sono quelle parole che noi aspettavamo da un anno, che la città aspettava da un anno, che i nostri lettori aspettavamo da un anno. Noi in campagna naturale trovavamo gente che ci chiedeva cos'è Luca Polotiele, cos'è Itinera. Queste entità, no? Noi abbiamo fatto tutte le valutazioni, abbiamo approfondito quelle che erano le reali condizioni, siamo arrivati a avere un qualcosa di più concreto, di conseguenza la strada tracciata dal Consiglio, su un suggerimento anche dell'amistrote unico, per noi è assolutamente perseguibile. Quindi c'è il voto convinto favorevole del Partito Democratico. Grazie. Grazie, consigliere Battistini. Consigliere Cantini, dovrebbe essere l'ultima… no, si aggiunge… prego, con te. Grazie, Presidente. Io non sono intervenuto nel dibattito, ma confermo quanto aveva già detto la Consigliera Lucchesi, cioè il voto completamente favorevole della nostra lista di Lucca Civica per quanto riguarda la delibera da approvare. Anch'io mi associo a quanto detto dal Consigliere Battistini nel ringraziare il Sindaco e anche il Dottor Bortoli per le parole spese nella replica, che sono parole che anche noi aspettavamo da parecchio tempo e credo che servano per far luce e mettere un punto sul passato e mettere un punto dal quale ripartire per una visione futura della holding che serva veramente a soddisfare i bisogni dei cittadini attraverso la fornitura dei servizi necessari. Quindi ribadisco ancora il voto favorevole alla pratica. Grazie. Grazie, Consigliere. Consigliera Piantini. Grazie, Presidente. Anch'io non sono intervenuta nel dibattito perché ho lasciato spazio a consiglieri che hanno più competenze di me per quanto riguarda le questioni economiche, però volevo esprimere anch'io il voto favorevole rispetto alla delibera che andremo a votare appunto e soprattutto volevo ringraziare il Sindaco e il Dottor Bortoli perché quando sono diventata consigliera l'impressione che avevo della Luca Holding era quella di un'idra senza controllo, molte teste che agivano praticamente ciascuna per i fatti propri. Ho visto in questo anno pian piano quest'idra essere appunto in qualche modo domata, passatemi il termine, proprio grazie al lavoro del Dottor Bortoli e della squadra che piano piano il Sindaco e l'amministrazione gli ha affiancato. E quindi, oltre che esprimere un voto favorevole, approfitto l'occasione appunto per ringraziare Bortoli per il suo lavoro, la squadra appunto di amministratori della Luca Holding per il lavoro che stanno facendo e per rinnovare appunto, colgo l'occasione per rinnovare la fiducia mia e del mio gruppo. Grazie. Grazie consigliera Piantini. Bene, terminate le dichiarazioni di voto, entriamo nel sistema di voto, gli scrutatori sono tutti presenti, Monticelli, Battistini, Seno Nero e Piantini. Allora, le votazioni sono quattro. Ci si può prenotare? Ammendamento 1, ammendamento 2, pratica immediata. Chiusa la prenotazione. Adesso, intanto vediamo che finiamo questa procedura qua. Mi sembra che tutti siano presenti, tutti prenotati. Adesso votiamo, appena sarà possibile, l'emendamento numero 1, l'emendamento della proposta di delibera, 264-2013. Si può votare l'emendamento 1, a firma della consigliera Lucchesi. Chiusa la votazione. Vi è stato consegnato, giusto, l'emendamento? Allora, 17 favorevoli, 0 contrari, 3 astenuti, un non voto. Cantini è approvato. Votiamo l'emendamento 2, da consigliare Lucchesi. Si può votare. Chiusa la votazione. Allora, con 18 favorevoli, 0 contrari, 3 astenuti. Approvato. Pongo in votazione. Allora, la pratica 264-2013, riduzione del capitale social di Lucca Holding S.P.A., indirizzo al socio unico, così come emendata. Si può votare. Chiusa la votazione. Allora, con 17 voti favorevoli, 1 contrario e 3 astenuti. Approvata. Pongo in votazione l'immediata eseguibilità della pratica 264-2013. Si può votare. Chiusa la votazione. Con 17 voti favorevoli, 0 contrari, 1 astenuti, 3 non voto. È approvata. Passiamo alla seconda pratica, che è la 263-2013. Autorizzazione alla Lucca Holding S.P.A. all'elaborazione di un regolamento di gruppo da sottoporre alla successiva approvazione del Consiglio Comunale. Allora, l'ustra è la pratica, il Sindaco. Quale ha la parola? Consigliere Angelini è prenotato per... Consigliere Angelini è prenotato perché... Consigliere Angelini è prenotato. Se ricordate, in passato vi sono state molte polemiche riguardo alla necessità di coordinare l'azione della holding con le società controllate. Perché? Perché all'interno delle società controllate si è dato poi vita, spesso, a situazioni nuove che sono sfuggite alla holding stessa e poi attraverso la holding sono sfuggite allo stesso Consiglio Comunale. Ebbene, se il rapporto è ancora controllabile per quanto riguarda comune holding, quindi se a Monte vi è una situazione nell'insieme sotto controllo, domani io sarò all'Assemblea di Luca Holding, la condizione diventa più difficile a valle, cioè diventa più complessa nel rapporto tra la holding e le società che fanno riferimento alla capogruppo, ovvero al Luca Holding. In più occasioni abbiamo rilevato all'interno di questo Consiglio come vi sia necessità di armonizzare questo rapporto, anche perché ci pareva necessario ed oggi ci pare ancora di più necessario che le decisioni importanti riguardanti le società passino dalla conoscenza del Consiglio Comunale e dagli indirizzi che il Consiglio Comunale vorrà fornire. Quindi, in tal senso e per queste ragioni, abbiamo cercato di autorizzare Luca Holding a elaborare un regolamento che riguardi tutte le società del gruppo, regolamento che sarà successivamente proposto al Consiglio Comunale per la sua approvazione. Quindi è questo un primo passo che si basa su dei pareri che sono stati acquisiti, in particolare il parere del professor Francesco Barachini, che è, credo, un'autorità in tal senso. Visto che i pareri li ha ricevuti e li ha osservati sicuramente meglio di me il dottor Bortoli, lascio a lui la parola per la illustrazione. Dunque, di questo tema abbiamo discusso una o due volte in commissione partecipate e il Consiglio Comunale sapeva, per avermi incaricato a farlo, che sarebbe stato ottenuto un parere da uno specialista in diritto societario, che è stato individuato nel professor Barachini dell'Università di Pisa, ma al di là del parere e del contenuto che voi conoscete perché è stato distribuito, credo che il tema meriti una riflessione a tutto campo e qui immagino anche di prevenire delle osservazioni che mi giungeranno ai vostri interventi. Quando si affronta il tema di una holding, si affronta un livello di competenza societaria aggiuntivo rispetto ai livelli delle società di capitali che fanno parte del gruppo. Cioè si apprezza un interesse di livello superiore, anzi non superiore, di livello diverso rispetto agli scopi sociali che ciascuna società del gruppo persegue e che sono indicati nei rispettivi statuti. Cosa voglio dire? Voglio dire che per principio dell'ordinamento giuridico introdotto nel diritto societario dal 2003, gli amministratori della società non possono essere espropriati neppure dall'Assemblea dei soci delle loro prerogative, cioè della loro possibilità di esercizio di un potere di amministrazione che deve essere informato a principi di fedeltà e diligenza assoluta verso la società che amministrano. L'amministratore vede la società che amministra, vede lo scopo sociale che si sta scritto nello Statuto e deve restare impermeabile agli input che gli arrivano dall'esterno, compresi gli input che l'Assemblea dei soci volesse attribuirgli. A me pare che già qualche anno fa, sulla base di un ordine del giorno del Consiglio Comunale, mi sembra proposto dal Consigliere Angelini, fu dato un mandato, se non sbaglio, alla Luca Holding di procedere alla revisione degli statuti per fare quello che tutti qua vorremmo, cioè per assicurare che le società fossero pienamente raccordate agli indirizzi del Consiglio Comunale, sia le società di primo livello, sia le partecipate di partecipate e così via. In particolare per quanto riguarda le grandi operazioni, le grandi operazioni che sono la compravendita di immobili, i conferimenti societari, le assunzioni di personale direttivo, la vendita delle quote, l'acquisto delle quote, insomma, noi siamo arrivati al paradosso, a parte che del CLAP noi abbiamo il 33%, ma siamo arrivati al paradosso che gli amministratori del CLAP avrebbero potuto gestire il conferimento del ramo d'azienda senza ascoltare il parere dell'Assemblea, essendo il conferimento del nostro diritto societario un atto di gestione. Quindi noi vorremmo che tutti gli atti di gestione più importanti venissero raccordati con la volontà del Consiglio Comunale. questo, per la conclusione a cui sono arrivato, per aver letto con attenzione il parere del Professor Barachini, per averne discusso con lui, ma anche per aver fatto tante altre letture a questo riguardo, non lo possiamo pretendere. Il Consiglio Comunale, a mio avviso, non può pretendere che gli amministratori abdichino alla loro sovranità e informino la loro reazione alle richieste del Consiglio Comunale veicolate dalla Holding. Quindi la mia conclusione è semplicissima. Se si vuole che l'amministratore, che so, di sistema ambiente o di Polo Fiere o di Metro, prima di fare un atto straordinario aspetti l'ok del Sindaco, bisogna cambiare sistema, bisogna non confidare più su un'architettura societaria come quella che abbiamo in piedi. Una soluzione funzionale però esiste ed è quella che il Professor Barachini suggerisce e che io condivido. Cioè, le società si controllano non solo con il diritto di voto in Assemblea, ma si controllano anche con sistemi contrattuali. Cioè, si possono vincolare i comportamenti degli amministratori a delle regole che loro stessi hanno accettato di seguire. Qualora queste regole non vengano da essi seguite, si può procedere tenendo conto che si è interrotto il rapporto fiduciario, poiché quelle regole le avevano accettate, non le seguono e quindi non meritano fiducia. Non so se sto parlando di cose troppo astratte, ma insomma il tema è astratto di suo, cerco di semplificarlo io, ma per farla in breve il Consiglio che è arrivato dallo specialista è quello di dotarci di un regolamento di gruppo che spieghi alle società del gruppo e ai loro amministratori, che oltre agli scopi che loro perseguono potrebbe esserci uno scopo di livello diverso, che è l'unitarietà di gestione del gruppo, che viene perseguito dalla holding e in nome dell'unitarietà può essere chiesto loro di fare delle scelte, di prendere delle decisioni che nella loro logica aziendale non sarebbero giustificate, ma diventano giustificate soltanto se il gruppo lo chiede. Loro hanno modo di chiarire a verbale nelle loro società che stanno facendo qualcosa che gli viene imposto dalla capogruppo e la società che loro amministrano, qualora fosse danneggiata da questo input esterno, deve essere indennizzata a riguardo dalla capogruppo secondo i principi del 2497 del Codice Civile. Questo sistema è l'unico modo, a mio avviso, sulla base del parere Barachini e delle letture che ho fatto, è l'unico modo, a mio avviso, per non inseguire chimere, cioè per non aspettarci di fare delle modifiche degli statuti che andrebbero a mettere dei vincoli illegali agli amministratori delle nostre società partecipate. Il fatto che noi siamo soci, che siamo anche soci al 100%, come in alcuni casi, non ci autorizza lo stesso a pretendere che gli amministratori delle nostre società non usino la loro testa e non prendano le loro decisioni sulla base del loro buonsenso, della loro ragionevolezza e dei principi di fedeltà alla società che amministrano. L'unico modo per condizionarli, tra virgolette, è quello di rappresentare a loro uno scopo ulteriore rispetto allo scopo sociale, che è lo scopo di gruppo, dire che il titolare dello scopo di gruppo è la holding, che soltanto la holding può individuare gli scopi di gruppo, li può rappresentare e quindi pretendere che qualsiasi loro proposta di decisione venga valutata con una griglia a doppio livello. Se loro propongono una decisione, che so, vendere una sede, questa decisione va sottoposta a una verifica interna nella logica aziendale, cioè questa decisione corrisponde agli scopi della società, fa la buona gestione, la buona gestione della società e poi sottoporla a un secondo livello. Questa decisione di vendere la sede corrisponde agli indirizzi unitari del gruppo, questa seconda valutazione spetta alla capogruppo, per cui bisogna imporre agli amministratori di mandare un flusso informativo alla capogruppo affinché possa esercitare questo potere di valutazione. Come gli si impone un flusso informativo dal basso verso l'alto? Con un regolamento che loro liberamente accettano, a pronone nella loro società e poi, come ho detto, se non rispettano l'unico, tra virgolette sanzione che si può decitare, è quella della revoca per giusta causa, in quanto viene meno il rapporto fiduciario, visto che loro non approvano un regolamento che avevano scelto liberamente e consapevolmente di approvare. Per cui ho chiesto al Consiglio Comunale di rivedere l'indirizzo che mi era stato indicato, l'indirizzo era quello di fare delle proposte di modifiche statutarie, l'indirizzo che io personalmente, alla luce di quello che ho detto, non condivido ed è stato un ripensamento perché mi ero orientato anche io in quella direzione e stavo già lavorando a delle modifiche statutarie, però sono ora convinto che sia meglio andare sulla strada di un regolamento di gruppo che, se il Consiglio volesse, potrei provare a proporre, ad articolare e poi ovviamente sottoporre al Consiglio Comunale se lo vorrà. Signor Presidente del Consiglio Comunale, signor Consiglieri, signor Sindaco, dico che ho dei problemi personali alla fine di questo intervento che sarà anche per questo contenuto mi devo allontanare. Naturalmente una grande delusione, io provo oggi, ecco, che ha un precedente perché quest'ordine del giorno che avevo proposto il 23 luglio 2012, quindi pochi giorni dopo l'istituzione dell'amministrazione, io l'avevo proposto e fatto votare dalla precedente amministrazione precisamente nel 2008, votato, approvato e mai applicato. Spiegherò anche le regioni che allora Favilla, oggi Tambellini, in una certa continuità, ritengono in qualche modo di perseguire un disegno diverso per gli stessi motivi, si offende sempre Tambellini che dico nei confronti della regione, dell'ospedale, delle partecipate, dell'urbanistica, segue le linee di Favilla, purtroppo è un dato di fatto. Riepilogo per capire che cosa avevo proposto. 23 luglio 2012. Leggo la Lucca Holding dovrà procedere alla modificazione degli statuti della società di cui detiene la maggioranza assoluta delle quote, provvedendo a riportare nella competenza dell'Assemblea, laddove lo Statuto li preveda fra le competenze del Consiglio di amministrazione, gli atti che abbiano il carattere di straordinaria amministrazione, ma che rivestono particolare importanza per quanto riguarda l'indirizzo generale dell'attività aziendale. In particolare, citavo, le decisioni in ordine alla alienazione dei beni aziendali, gli investimenti rilevanti, la possibilità di generare filiazioni aziendali, di alienare e comprare quote partecipative eventualmente possibili, ci voglio anche mettere anche le nomine. Qual era il sistema? Le società partecipate mettono questi atti particolari, straordinari, nella competenza dell'Assemblea dove partecipa ed è maggioranza il rappresentante della Lucca Holding. Il rappresentante della Lucca Holding mette nelle competenze dell'Assemblea queste diciamo sue responsabilità, siccome è il sindaco a rappresentare l'Assemblea della Lucca Holding, il sindaco che rappresenta il Comune viene in Consiglio Comunale e non può, come fa ora, come faceva Favilla, dire che non ne sa niente, che lo sa, le società hanno la loro autonomia, risponde politicamente al Consiglio che con questo meccanismo, modifica degli statuti per mettere la competenza dell'Assemblea delle società, modifica del Statuto della Lucca Holding per mettere nelle competenze dell'Assemblea questi atti straordinari, il sindaco che approva e decide su questi fatti straordinari, mica si tratta della normale gestione, ma questo, questo, vendere o comprare delle quote, come è stato fatto, io vorrei citare, la valutazione della Lucca, del Polo Fiere, fu fatta per dare a Valentini la possibilità di prendere due milioni e tre delle quote che aveva, ma che vuol dire, l'abbiamo denunciato varie volte, che si scopre ora che erano perizie abbastanza montate e così via e così via. Quindi questi atti è opportuno che vengono attraverso il sindaco nella competenza del Consiglio Comunale. Per valorizzare il Consiglio Comunale devono essere le società partecipate poste sotto il controllo del Consiglio Comunale se si fa questo meccanismo di coinvolgimento del Consiglio attraverso il sindaco. Naturalmente dice il dottor Bortoli che questo non è permesso da Barrachini, naturalmente da questo Bortoli, quando si parla di economia io lo rispetto sicuramente, quando si parla di diritto mi rispetto più una cosa, perché Barrachini dice la cosa del tutto contraria a quello che dice Bortoli, vi permetto di seguire. Dice Barrachini, per quanto con te c'è nella materia gestoria, preme rilevare che nelle SPA in gran parte sono quelle più rilevanti, perché sulle SRL si dovrebbe fare un altro discorso, ma io abbozzo perché queste sono le cose più rilevanti, la GEA, la GESAM, il sistema ambiente, la polizia, queste sono le società per azioni. Il legislatore ha espressamente codificato il principio secondo cui la gestione dell'impresa spetta esclusivamente gli amministratori. Se il codice fosse questo avrebbe ragione, diciamo, il dottor Bortoli, ma il codice non è soltanto questo, perché dice sempre Barrachini, mette tuttavia conto, rilevare, che il principio della generale ed esclusiva competenza gestoria degli amministratori soffre un'eccezione. Nell'ipotesi prevista dall'articolo 2364,1,5 del codice civile, il quale stabilisce espressamente che l'Assemblea ordinaria delibera sulle autorizzazioni eventualmente richieste dallo Statuto per il compimento degli atti degli amministratori. Quindi, se lo Statuto dà all'Assemblea il compito di decidere, questo, il codice civile lo permette. Dice Barrachini giustamente, guardate però che c'è una limitazione, non si può dare una competenza generica e generale all'Assemblea, giusto? Io nella mia proposta non ho mai detto si occupa della straordinaria amministrazione, ho detto si occupa della generazione di filiazioni aziendali, delle lezioni di quote partecipative, dell'acquisto, dell'anniazione di beni aziendali, di investimenti rilevanti, su tutte cose che Barrachini ritiene compatibili. Il professor Barrachini pone tuttavia un altro problema, dice guardate che però comunque sia gli amministratori possono fare quello che ritengono opportuno e disattendere il voto dell'Assemblea. Però, ecco, io non voglio cos'ha. Se andate a vedere tutte le sentenze della Cassazione, chi ne ha voglia, diciamo, lo mette in rilievo, se voglio lo do, tutte le sentenze della Cassazione e si dice nell'articolo 2383 del codice civile che gli amministratori sono revocabili nell'Assemblea in qualunque tempo, salvo il diritto dell'amministratore al risarcimento dei danni, se la revoca avviene senza giusta causa. Tutte le sentenze della Cassazione stabiliscono che quando viene meno il rapporto di fiducia fra i soci nell'Assemblea e gli amministratori, in questo modo questo è motivo, il revoca con giusta causa. Quindi quello, e io lo voglio argomente, il dottor Bortoli dice che questo è possibile anche in un regolamento. Sì, forse, ma quando si fa un regolamento generale non è possibile prevedere tutte le fattispecie, tutte le analisi giuridiche. Mentre è chiaro che se una competenza dell'Assemblea, l'Assemblea decide e l'amministratore non rispetta l'indirizzo, questo si può essere revocato per giusta causa, non è vero lo stesso o almeno molto opinabile, in tutti i casi in cui c'è un regolamento, come propone il dottor Bortoli, che si presta alla difficile interpretazione se gli amministratori hanno o non hanno rispettato l'ettra e sostanza del regolamento. Quindi il dottor Baracchini, il professor Baracchini, diritto commerciale, diceva tranquillamente che quello che io propongo è fattibile. Devo dire una cosa, io non me ne ero accorto con franchezza, perché poi la mia mozione è stata stravolta nella delibera che è stata fatta nel 4-12. Io in coscienza l'ho votata anch'io, perché pensavo che il dottor Bortoli, che non è, diciamo, una celebrità nel campo del diritto, avesse fatto con parole più comuni quello che io interpretar proponevo con un linguaggio giuridico. Se andate a leggere però l'ordine del giuro approvato, oltre a parlare della possibilità di nomina di revoca degli amministratori, su cui ritornerò dopo, si parla, si chiede, e quindi Baracchini ha risposto al quesito, non se l'assemblea dove è maggioritaria Luca Holding può o non può, in questi casi, deliberare su una competenza sua assegnata, ma soltanto se Luca Holding, sia per l'SRL, sia per l'SPA, può, a quella Luca Holding può essere attribuito il diritto di imporre una decisione. Ora vi lascio le cose, perché Baracchini è molto complicato, insomma, delle sfami, ce l'ho, non c'ho tempo, perché in qualche modo propone tesi stravaganti sui diritti spettanti ai soci, per cui in certe circostanze questo sarebbe o non sarebbe, ma questo è un'altra cosa e ha deviato tutto il dibattito, il parere di Baracchini e le decisioni del dottor Bortoli e del sindaco da Bellini su un'altra cosa, perché capite la differenza, se la volete capire. Altro è votare una società dove c'è Luca Holding su una competenza d'assemblea, si vende o non si vende metà delle quote della società partecipata. Luca Holding decide, va nell'assemblea della Luca Holding, il sindaco in qualche modo delibera e poi viene qui, se ritiene opportuno, ma è politicamente responsabile di quello che ha fatto e quindi coinvolge il Consiglio Comunale in un problema che riguarda anche noi. Se si vendono quote, se si fanno società di filiera, se si vendono beni immobili, perché questo non lo farete più, se si vende come si chiama, la palestra, qui non ne sapremo più, mentre si saprebbe perché quando succederà il sindaco viene qua e dice che ne so io, l'ha fatto Bortoli. Se si vuole e se si voleva permettere al Consiglio di essere competente e politicamente responsabile su tutti questi atti, si doveva fare la mia proposta. Quella di Bortoli è quella di dare a Luca Holding, quindi a lui, la possibilità di fare delle cose, ma non passando dall'assemblea, dandogli come amministratore delegato e quindi senza rilievo per quanto riguarda il sindaco e il Consiglio Comunale. Questa è la differenza, che non è da poco in questo modo. La soluzione che propone Bortoli, quella flessibile di un regolamento di gruppo, ha questo difetto, come dice Baracchini, non ha nessuna efficacia vincolante, nessun strumento coincidivo, si tratta soltanto di istruzioni invece che di decisioni. E naturalmente dare oggi il mandato a Bortoli di fare questo regolamento di gestione è in qualche modo un limite grave, uno sbaglio e comunque l'esatto contrario è quello che ha fatto Famiglia, nel senso che il sindaco non risponde di niente e in qualche modo il Consiglio Comunale non è istituzionalmente in grado di essere neppure informato su quello della gestione delle società e tutto va tranquillamente avanti. E devo dire, ora questo lo dico al sindaco, spero che non si arrabbi, che mi sembra che sia un tratto caratteristico di questa amministrazione e del sindaco Dambellini, in quale sulle decisioni più importanti non si assume nessuna responsabilità. L'ultima cosa, una sciocchezza, la vendita che aveva fatto il Consiglio Comunale a prezzo di favore a un certo Bianchi. Dice il sindaco, che ne so io, la stima l'ha fatta Pelletti, ripartemi con lui, si fa piazzare verdi tutto quello che si è fatto. E il sindaco dice, a chi ne sa niente, io non sono mai deliberato, rivolgetemi all'architetto di Bugno che è l'esperto. Anche in questo caso sarà così, per tutte le società partecipate il sindaco non sa niente e in qualche modo chi vuole sapere di più si informerà con i giornali, con gli amici, con tutto quel sistema di informazione che non è istituzionale. E devo dire anche una cosa, in aggiunta a tutto questo, Baracchini dà anche delle importanti precedazioni per quanto riguarda la nomina dei rappresentanti nelle società partecipate. Perché io vi vorrei richiamare che, contrariamente alla comunis opinio che il sindaco nomina come di fare, come ha fatto fino ad ora, nello statuto del nostro comune, all'articolo 28, si dice che il sindaco, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio, provvede alla nomina, alla segnazione e alla revoca dei rappresentanti del comune, presso enti, aziende e istituzioni. Enti, aziende e istituzioni. L'azienda è solo un teatro del giglio, ma tutte le altre società partecipate, come ci chiarisce Baracchini, il sindaco non ha nessuna competenza a fare questo. È soltanto il Luca Holding partecipando all'assemblea di, in qualche modo, portare avanti questa nomina. E, naturalmente, Baracchini fa una proposta, un procedimento per permettere o vincolare il dottor Bottoli, che è molto bravo, a, in qualche modo, coinvolgere il comune. Però, Bortoli, quella procedura che non verrà mai attuata, Bortoli dice, cioè il dottor Baracchini, Bortoli si rivolge al comune. Ma, in tutti i casi in cui si parla del comune, non si parla del sindaco soltanto, si parla dell'amministrazione comunale. Quindi, il procedimento di nomina degli amministratori dovrebbe, secondo Baracchini, non è competente il sindaco, ma dovrebbe, secondo Baracchini, essere procedimentalizzato, non so come usano brutta parola, in modo che anche il Consiglio Comunale, l'amministrazione, sia capace di dare degli indirizzi. Io, tanto, sono convinto che le cose che dico nessuno le seguirà. Se mi permettete, me ne vado, vorrei sempre sottolineare che Tambellini si sta comportando come Favilla, nomina chi gli pare. Anzi, devo dire che Tambellini è più rigoroso di Favilla, perché Favilla, almeno qualcuno del centro-sinistra ci ha messo. Scacchiotti, che ora è diventato presidente del Giglio, è stato dieci anni nel teatro del Giglio e, naturalmente, un pezzo grosso che è Ugo Fava è stato, diciamo, in un luogo molto discutibile, quello del Polo Fiere, senza mai, noi abbiamo richiamato, io non ho mai sentito fare una critica, un improvero, una cosa, per quel Polo Fiere che oggi critichiamo per tutte le cose. C'era o non c'era Ugo Fava, dottor Bortoli, c'era, c'era. E, naturalmente, per la sua qualità e il suo controllo ha avuto, giustamente, dal sindaco Tambellini, un rilievo speciale nelle società. Quindi, in qualche modo, il sindaco Tambellini è meno liberale di Favilla, più, però, continuo, perché ha apprezzato questi speciali amministratori nel teatro del Giglio, nel Polo Fiere, che, da un altro punto di vista, non sono da tutti apprezzati e qualcuno, perfino, criticati. Conclusione. Io credo che una maggioranza seria, dico a voi, in una regione dove non c'è più opposizione, avrebbe il dovere non di schierarsi, diciamo, come una corte, senza neanche capire o di leggere, o dietro una pote che nessuno ha discusso. Se si volesse, come dovrebbe fare una maggioranza seria, come io ho cercato di fare, lasciando la maggioranza di Favilla, anche per questi motivi, dovrebbe portare avanti l'idea importante di qualificazione e rivalutazione del Consiglio Comunale, riportando, attraverso il sindaco, su alcuni atti importanti delle società partecipate, la decisione, la conoscenza e la decisione. Qui, con questo regolamento, a cui darete sicuramente il voto, ma come si fa? La gente così perbene come Bortoli, lo dico senza rinunia, e il sindaco Tambellini, che frizza bontà, chiarezza, amor proprio e generosità da ogni poro, non gli si può non dare la fiducia. Però sappiate che dando, facendo questo regolamento, il Consiglio Comunale, sbagliando, sospende la sua competenza, si espropia di facoltà che secondo Baracchini potrebbe avere e continuerà, anche a Luca, anche in questa straordinaria amministrazione, una gestione delle società partecipate, dovuta fino ad ora, e cioè in cui, quella che io dico, una gestione amicale, non si passa attraverso le istituzioni. In qualche modo, se Tambellini ha messo qua e là questo signore scacchiato di una parte, Ugofaba dall'altra, eccetera, certo, sono persone con ognuno della sua competenza e capacità, ma è evidente che la gestione della società, sia pure immediata da porto, ripasserà attraverso questa gestione che io definisco amicale, nel senso basata sull'amicizia, sul rapporto politico, sul rapporto culturale, sul rapporto, diciamo, che non ha niente a che fare con il rapporto istituzionale e quindi in questa situazione delle società partecipate e mi viene alla fine diretta delle società partecipate assegnate a compagni di classe, come ci sono stati, addetti ai tavoli di un programma, qui Battestini l'ha richiamato oggi, il programma dell'amministrazione, a me mi sembra che sia evaporato, non si ricorda nessuno, che programma in qualche modo ha avuto l'amministrazione, andate per a rileggere, io ogni tanto, siccome non c'ho da fare molto qualche volta a casa, rileggo il programma di Tambellini, non ci trovo niente di quello che aveva promesso nell'azione. E quindi, addetti ai tavoli della programmazione, amici di classe, amici devoti, corticiani e varie umanità continueranno a gestire attraverso questo rapporto non istituzionale, non corretto, giuridicamente garantito, la gestione delle società. E Tambellini avrà la possibilità, quando ne avrà voglia e quando non ti era opportuno, di informarci e di questo lo ringrazieremo. Naturalmente, tutto si può fare, voterete, però ecco, per favore, non si parli a ogni presso spinto di trasparenza e di partecipazione, come non c'è in una delibera che state prendendo in questa occasione. Potete sulla trasparenza e la partecipazione fare anche dei convegni, ma io ne vedo poca e, in questo caso, nessuna presenza negli atti che vi fate, l'ingestione di una cosa così importante, qual è la gestione delle società partecipate. Naturalmente, io spero di continuare questa trilogia, la cosa, nel futuro Consiglio Comunale per dimostrarvi che anche sulla politica urbanistica questa amministrazione segue la dottrina di Favilla e le scelte che sono state fatte continuano ad andare avanti e questo mi sembra, per un'amministrazione che si è presentata come la novità, come l'impegno a cambiare le cose, una opzione sbagliata e tradita. Ringrazio, e per le ragioni che il Presidente sa, io purtroppo devo andare. Ringrazio, ho cercato di essere meno polemico possibile, naturalmente ho detto le cose che penso, leggerò quello che ha detto Bordoli, però in coscienza Bordoli, arrivare a leggere quello che dice Baracchini, non dice le cose che lei gli fa dire, Baracchini è una persona molto brava e esperto di diritto commerciale e ha detto nel suo parere che la mia proposta di mozione, l'unica possibile per valorizzare il Consiglio Comunale, era possibile. Grazie. Prego. A proposito al Consigliere Bertrucci. Sì, grazie Presidente. Tanto per dire che anche questa pratica è passata dalla Commissione partecipata e dopo la discussione ha avuto esito favorevole. Come già detto anche negli interventi passati, anche nel mio, rispetto alla pratica precedente, il controllo e l'indirizzo che il Consiglio Comunale deve fare sugli enti partecipati è cosa fondamentale. Però, allo stesso tempo abbiamo detto che le società per azioni, le SRL, rispondono a criteri imprenditoriali per volontà di legge e gli amministratori devono comunque rispondere a questi criteri. E allora il Comune non può essere solo un censore di operazioni decise da altri e magari spesso esserlo, cioè quasi sempre esserlo magari anche tardivo, essere anche tardivo su queste cose. E quindi deve prevenire, indirizzare. Questo è possibile quando, certamente, politicamente si fanno delle scelte valide, costruttive, coraggiose, quando, cioè, non si abbica al proprio ruolo. Però è negabile che in questo contesto, certamente, da approfondire e esplorare, da incalzare può risultare utile anche lo strumento del regolamento di gruppo che vorremmo adottare con questa delibera. Sarà perché, come dicevo nell'intervento che ho fatto prima, mi piace dare un volto umano ai temi finanziari ed economici. Per cui, a me questo regolamento pare avvicinarsi parecchio a un codice etico, ve lo dico, che non vincola, forse non vincola, cioè, sicuramente non vincola gli organismi di gestione delle società, ma vincola gli amministratori, almeno a livello personale, tutti dovrebbero sentirsi vincolati. Abbiamo anche detto che, forse, valorizzare il capitale umano è importante. In origine, anche stimolati dal Consigliere Angelini, è vero, avevamo pensato di portare a casa un risultato diverso, come quello della modifica degli statuti delle singole società. Infatti, quello che ci interessava era riportare nelle decisioni del Consiglio Comunale e quindi all'Assemblea delle società, invece che al CDA, quelle pratiche che, a nostro parere, ci sembrava giusto rientrassero fra quelle non di ordinaria amministrazione. Però la linea su cui muoversi era molto delicata e quindi è stato, infatti, necessario chiedere l'UMI. Credo che questo regolamento ci permette di influire su queste scelte, stando nel perimetro della legge. Io, rispetto a quello che diceva il Consigliere Angelini, so benissimo che c'è stato un ampio dibattito su questo tema in Commissione partecipato e io credo anche una forte disponibilità della maggioranza a condividerlo. Però ricordo anche che da subito erano nate delle perplessità sul poterlo adottare così come era stato richiesto già, è vero, dal vecchio Consiglio Comunale con un altro ordine del giorno, che però poi non aveva portato a niente. Insomma, la domanda rimane, non aveva portato a niente perché effettivamente non si poteva fare o perché c'era il mobilismo e questo non si poteva fare. Insomma, mi rimane, io comunque credo che questo strumento ci possa aiutare molto. Grazie. Grazie a lei, Consigliere Bertelucci. La parola adesso è dal Consigliere Lenzi. Io chiederei cinque minuti di sospensione, se è possibile. Bene, allora, sospensione accordata. Grazie a tutti. 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 a tutti. Grazie 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 a tutti. Bene. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.